E' in onda anche stasera in diretta con Luca Telese, la vice direttrice della stampa Annalisa Cuzzocrenco, il collegamento Mauro Mazza e Giovanni Floris, grazie per essere con noi ma questa è la puntata lunga quindi ci raggiungeranno dopo di loro anche il Maurizio Landini della CGL, Luca Mercalli che ci spiegherà un po' di cose sul clima e poi Federico Fubini e poi Delfina Fubini di ultima generazione, puntata veramente bollente, ogni volta che abbiamo Giovanni, cara Marianna, ti ricordi che facciamo un record? Sì, ma tu perché devi portare male proprio così? Ci vediamo tra poco, non aggiungiamo parole, a tra poco Allora sullo sfondo ci sono i casi, la russa, Santanchè, le parole del ministro Abodi, c'è un filo nero ci ha detto Giannini, ospite qui da noi, direttore della stampa, oggi addirittura c'è un caso piccolo, caso che ne insegno, che cosa c'è dietro questa offensiva culturale? Un cambio di tempo, un colpo di sole? Oggi lo discutiamo con alcuni dei più straordinari, divisivi opinionisti che esistono nel nostro panorama perché abbiamo all'altro Mauro Mazza, che conoscete, firma storica del secolo, direttore del Tg della Rai e poi dopo il nostro grandissimo Giovanni Floris, ma la regina con un vestito straordinario blu di Prussia e Annalisa Cuzzocrea Fa sempre così? Sì, ma lo sarebbe anche senza, guarda Eh? Anche senza blu, rimane regina la corso Sì, infatti, no, è una regina Rimane regina Buonasera Andiamo, tra l'altro, scusate, a proposito di regine La regina dei nostri collegamenti è Ludovica Ceriello che abbiamo in collegamento da Roma Eccola, ciao Ben trovata Ludovica che è la festa dell'unità di Roma e tra poco arriverà la segretaria del Partito Democratico Schlein chiedici la linea appena arriva insomma, fermaci quando serve Noi siamo qui Interrogata dai giovani Mentre invece interrogata da tutto il mondo c'è la Sant'Achec che oggi, tac, ha colpito duro e si è difesa Così In questi giorni lei ha mai pensato di fare un passo indietro? Non capisco per quale motivo A oggi, adesso che vi sto parlando non ho ancora ricevuto nessun avviso di garanzia Alcuni giornali scrivono delle grandi bugie per questo faremo no alla nostra querera Nessuno mi ha mai accusato nelle mie funzioni di ministro Sono assolutamente tranquilla Poi io sono un cittadino non partecipo ai processi mediatici mi difendo dai tribunali Io dico ai giornali bene la libertà di stampa scrivete quello che volete poi anche lì ci sarà qualcuno che dirà se le cose erano vere o se le cose erano false Mi auguro tra qualche anno di avere un bel gruzzoletto che del mio risarcimento danni potrò magari aiutare qualcuno che ha più bisogno di me Magari quelli delle casse integrazioni non pagate Adesso ci arriviamo Giovanni Floris Ovviamente non potevamo ricominciare da questa clip perché è l'ultimo aggiornamento sul caso Sant'Anchè però il caso Sant'Anchè si inserisce in un rosario di passione in qualche modo del governo di questo inizio estate Che momento è per il governo di Giorgia Meloni e da qui partiamo? Io sono convinto che Giorgia Meloni sia stata votata da tanti italiani perché era una novità e perché gli italiani sperano diciamo nella soluzione ai problemi economici essenzialmente attraverso un atto l'abbassamento delle tasse Questa questione giustizia fa male dal mio punto di vista al governo non tanto perché gli italiani la pensino in maniera particolarmente opposta a quello che sta tirando fuori Giorgia Meloni sulla giustizia gli italiani la pensano da sempre allo stesso modo ogni volta che si tocca questo tema si radicalizzano le posizioni il problema è che questo tema mette sempre in mostra qual è la qualità della classe dirigente che va a affrontarlo perché quello che sanno gli elettori anche quelli che hanno votato Giorgia Meloni è che è un problema estremamente complicato è un problema estremamente delicato faccio un esempio non è che se abolisci l'abuso di ufficio diventa possibile abusare del proprio ufficio non è che se tu abolisci la concorrenza l'aiuto esterno all'associazione mafiosa lo puoi fare tutti sappiamo che anche ove venissero toccato queste fattispecie simbolo in ogni caso servirebbe un intervento molto delicato per continuare a vivere socialmente vivere allora uno dice beh una novità una premier giovane alla sua prima prova deve essere sostenuta da parecchie persone che ci sappiano fare che l'aiutino nel riformare il concorso esterno in associazione mafiosa o l'aiutano nel dare una nuova regolamentazione ai rischi che il proprio ufficio possa essere abusato e allora ti guardi intorno e vedi nel primo cerchio della giustizia la questione Sant'Anché certo bancarotta indagata cosa è questa storia che avrebbe comprato una casa l'avrebbe venduta e due ore l'avrebbe comprata e un'ora dopo ci avrebbe guadagnato un milione secondo delle testate molto autorevole appunto report che su cui tutti gli italiani si sono formati domani con delle firme molto importanti poi ti giri e vedi che c'è un sottosegretario del Mastro che il motivo per cui il PM dice non lo indagate è beh poteva sbagliarsi giustamente in un sistema che non nasce per del Mastro c'è un GIP che dice beh ma come fa a non saperlo un avvocato penalista e questo è il primo cerchio secondo cerchio si staranno occupando di economia accendi il telegiornale e stiamo dopo che stanno scadendo i termini andando a chiedere di cambiare delle cose per avere i soldi del PNRR ma come il PNRR era così importante e in estremi anzi oltre il limite chiediamo di cambiare e allora guardiamo la cosa a cui tengono di più in questo governo cosa è la cultura e beh la cultura parte il maxi e sono tutte parolacce c'è il premio strega e il ministro non ha letto i libri e i cerchi che stanno intorno a una premier che è stata votata come novità sembrano poco affidabili e la novità su cosa gioca una classe dirigente che sembra deludere la gioca sulla giustizia sembra di tornare a dieci anni fa guardate che i giornali mi attaccano fanno schifo non mi dimetto le dimissioni della Sant'Anché non sono importanti da un punto di vista delle dimissioni perché non è che se ne va la Sant'Anché cambia la politica del turismo di questo governo sono un segnale che probabilmente molti osservatori si aspettano per dire ma Meloni si tiene questi o li cambia molto interessante hai già dato un quanto di sfida a Mauro Mazza voglio metterci il carico quando guardavamo quelli a intervento della Sant'Anché in redazione c'era qualcosa che non capivamo poi con Mimmo con Marianna abbiamo messo a fuoco sembrava blob cioè le parole trasudavano una tranquillità ma la faccia era molto tesa e si chiudeva con quella minaccia mi arricchirò con quelli che parlano di me allora Mazza finalmente viene da dire oddio questa è cattivissima allora questo è tutto totalmente strano alla storia che tu hai vissuto e che rappresenti lo abbiamo detto tante volte ma sono forse importanti le possibili o non possibili dimissioni della Sant'Anché perché è una cultura che non è quella della storia che rappresenti non è quella del movimento sociale non è quella della giustizia delle mani pulite del viva di Pietro durante Tangentopoli di tante cose di Almirante pena doppia per i nostri che sbagliano o no? io rappresento la mia di storia Luca mi dispiace deluderti non sono rappresentativo delle storie altrui io vorrei tornare un attimo alle parole dette ieri da Giorgia Meloni su queste vicende lei ha distinto i casi e ha anche graduato le difese rispetto a Del Mastro e Sant'Anché il caso Larussa Junior lo ha considerato e giudicato e valutato giustamente a parte io credo una cosa che il Presidente del Consiglio abbia in mente ancora un orizzonte di legislatura la metto in questi termini e sa di poterselo ancora permettere di ragionare con questo orizzonte ancora lontano di quattro anni e mezzo può guardare a questo orizzonte ancora oggi nonostante questi inciampi diciamo così per la stabilità del quadro politico per la maggioranza consistente in Parlamento che la sostiene e per l'inconsistenza delle opposizioni per dirla tutta e quindi sono convinto che come accadde nei campionati quelli lunghi faticosi con 70 partite che il club deve affrontare c'è tempo di avvicendamenti e penso che la Melonia procederà passata alla bufera mediatica gli attacchi politici e qualche sassolino giudiziario a qualche avvicendamento detto questo però più in generale io penso una cosa sono molto convinto di quello che sto per dire e cioè che tutta la classe politica che aspira o che si presenta quale classe dirigente sta forse trascurando perché c'è dimenticanza troppo in fretta la questione morale quella questione morale che 30 anni fa portò all'appoggio incondizionato di mani pulite di Milano portò la vittoria di Berlusconi in quanto novità in quanto a quel momento veniva considerato come il nuovo che avrebbe spazzato via ogni forma di politica negativa e che la stessa questione morale che 10 anni fa portò al successo di Beppe Grillo del suo movimento quindi sarebbe sbagliato a qualunque latitudine politica sottovalutare questo elemento perché i politici che spuntano a essere classe dirigente hanno il dovere di rispondere su questo punto più ancora che sugli altri a chi lo ha votato a chi li ha votati e a chi vorrebbero che li votasse Annalisa Cusso Crea Mauro Mazza diceva insomma c'è tutto il tempo per eventuali aggiustamenti viene da pensare insomma che la Presidente Meloni in qualche modo con le dichiarazioni di questi giorni abbia preso un po' di tempo tra l'altro nel frattempo arrivano agenzie sull'incontro tra Sergio Mattarella e Giorgia Meloni il colloquio è stato definito da fonti del Quirinale cordiale e costruttivo diciamo nella difesa nelle dichiarazioni più che difesa che Giorgia Meloni ha fatto da Vilnius ieri ci hai visto appunto questo acquisto di tempo per capire bene come evolvono i fatti e nella distinzione che ha fatto sugli affari privati da imprenditrice di Daniela Santanchè forse una sgrammaticatura istituzionale Giorgia Meloni ci ha abituato a una difesa a testugine dei suoi nel momento in cui è più sotto attacco quindi sono d'accordo con Mauro Mazza e quello che lei fa sempre sotto attacco poi probabilmente può essere che stia facendo delle riflessioni e queste risposte appunto graduate che ha dato sui diversi casi lo fanno pensare però c'è una contraddizione molto evidente in quello che lei ha detto ieri perché lei ha cominciato a dire non c'è nessun nessun non ho niente contro la magistratura chi pensa che si torni indietro sta sbagliando poi però alla domanda ma allora le fonti di Palazzo Chigi che hanno detto c'è un disegno politico della magistratura in vista delle europee a chi erano da chi venivano lei ha rivendicato di essere d'accordo con quelle fonti le dichiarazioni dell'ANM che lei ha stigmatizzato sono venute dopo le fonti di Palazzo Chigi che parlavano di una costruzione politica della magistratura quindi insomma c'è una contraddizione chiaramente voleva parlare non voleva dare l'idea di una premier in fuga dai problemi della sua maggioranza però questi problemi esistono e perché esistono perché è vero che il governo è saldo e ha un orizzonte davanti a sé però è anche vero che sta nascendo per via di questi inciampi sta crescendo una competizione interna si tratta di inciampi che riguardano tre persone tutte e tre di Fratelli d'Italia quindi sia Sant'Anché che Del Mastro che Ignazio Larussa anche se non è lui protagonista di un'indagine ma è il figlio ma sono state del Presidente del Senato Ignazio Larussa le parole inaccettabili dette nei confronti della ragazza che ha denunciato il figlio quindi questo ringalluzzisce un po' la Lega crea una tensione anche perché appunto ormai manca meno di un anno all'Europa c'è una competizione interna guarda caso gli ultimi sondaggi di questi giorni ci dicono che c'è un calo di Fratelli d'Italia e invece che la Lega insomma sembra guadagnare qualche punto quindi questo può creare delle fibrillazioni io penso che Giorgia Meloni stia facendo delle valutazioni più approfondite di quelle che ha lasciato intendere ieri Allora Annalisa vediamolo subito questa curva dei sondaggi e giriamola a Giovanni Floris che ovviamente ha l'esperienza per interpretarli il primo sondaggio che è arrivato in ordine di tempo è quello di un istituto storicamente vicino alla sinistra SVG ovviamente indipendente e dava addirittura una increspatura di crescita a Fratelli d'Italia ma era caldo il giorno dopo il caso del messaggio del Presidente del Senato perché noi qui parliamo di quel messaggio e non del caso della vicenda giudiziaria mentre invece il secondo sondaggio che è uscito in ordine di tempo è della Ghisleri persona certo non vicina alla sinistra che ha registrato una flessione brusca di Fratelli d'Italia allora Utrend come sapete la facciamo sempre vedere ci compone una media di tutti i sondaggi e questa supermedia come la chiama il demiurgo di Utrend la vogliamo far commentare a Giovanni Floris per quello che ne può trarre anche sugli andamenti dei diversi partiti te la leggo perché forse non ce l'hai sotto gli occhi scusa Giovanni allora la supermedia non ho ritorno non ho video comunque la posso immaginare vai vediamola qua in studio ecco ora la posso vedere se me la fate vedere ecco 28,6 Fratelli d'Italia perde lo 0,3 il PD una leggera flessione lo 0,1 i 5 stelle una no una crescita del PD e una crescita delle 5 stelle entrambi è lo 0,1 la lega cresce dello 0,7 questo è un dato interessante e poi Forza Italia perde lo 0,7 allora io sono convinto che i movimenti dei sondaggi non siano significativi fino al momento decisivo in questo periodo e la mia idea è che gli italiani investano su un rappresentante di volta in volta e nervosamente aspettino di vedere che cosa fa davanti alla prospettiva di abbassare le tasse o alzare le tasse e il sapore degli schieramenti al momento del voto era fondamentalmente questo davanti alla prospettiva di uno schieramento che dice io vi porterò la flat tax al 15% e un altro che dice andiamo piano adeguiamoci all'agenda Draghi e vediamo che succede gli italiani dicono ma voi non avete capito qual è il nostro problema che non ce la facciamo e votano chi deve abbassare le tasse per abbassare le tasse ci vuole carattere strategia e visione ora queste tre diciamo queste tre caratteristiche non le sta mostrando il governo di centrodestra non le sta mostrando neanche Giorgia Meloni però prima di cambiare cavallo si aspetta allora tutte le cose di cui stiamo parlando non ti fanno cambiare idea sul voto che è dato ti insospettiscono il fatto che Ignazio Larussa non riesca a portare avanti il ruolo di presidente del senato senza scontrarsi col proprio ruolo il fatto che il problema dell'immigrazione scelto come problema identitario da questa coalizione esploda a livelli mai diciamo mai visti in Italia e invece venga rivendicata dalla destra di governo delle teorie astruse come quella della sostituzione etnica voluta da qualcuno piuttosto che subita dal paese il fatto che davanti alla abolizione del reddito di cittadinanza esce fuori che magari c'è un ministro che invece di soldi allo Stato ne deve tantissimi invece di stare sul che era meglio che stesse sul divano eventualmente piuttosto che si mettesse a fare impresa sono tutti segnali che si segnano da qualche parte uno si prende un taccuino e dice beh questa immigrazione allora no cultura vabbè d'annunzio futurismo però poi io vedo tutte parolacce economia certo abbiamo ora fatto una nuova ondata ai titoli di Stato gli interessi stanno al 4% non succedeva da più di 10 anni allora che vuol dire che si ci guadagno io mi compro il bot perché sono buoni interessi ma chi li paga questi interessi ha sempre lo Stato e con che cosa li paga con le tasse ma non doveva arrivare la flat tax allora questi ragionamenti non portano a una variazione immediata quando ti telefona Pagnoncelli porta un sospetto che cresce che si diciamo si stratifica e poi ti fanno pagare in genere gli italiani per come sono fatti tutto insieme chiedere a Renzi chiedere a Monti chiedere a Draghi c'è un momento in cui dal 40% passi beh Draghi perse in qualche modo il sapore del sostegno del paese e si diciamo ci sono piccole cose che uno dice vabbè basta adesso passiamo al prossimo e il prossimo è sempre qualcuno che promette una scorciatoia abbiamo avuto Berlusconi un imprenditore poi Salvini un uomo forte Renzi il giovane prego hai fatto un sospirone Mauro il linguaggio del corpo noi lo decrittiamo lo sai siamo tridimensionali sei più esperto tu di linguaggio e di corpo tu dietro hai delle fruste degli archi quindi siamo anche un po' inquieti no in realtà no lasciami prego tocca a me Luca devo dire qualcosa io sì sì no c'è una domanda cioè se alla luce anche del ragionamento che faceva Giovanni Floris diciamo anche sulla volatilità del consenso anche quando è molto alto e molto convinto come sembrerebbe dalle ultime elezioni non solo quelle politiche ma insomma anche tutte le altre quelle regionali e le amministrative se diciamo l'idea della card dedicata a te che in qualche modo può essere comunicata come un aiuto che va incontro proprio a quel tipo di difficoltà anche proprio quotidiane delle persone non possa essere con un po' di malizia un espediente per cercare di salire nel consenso a dispetto di tutto quello che era stato promesso e ancora non è stato affrontato io credo che ad un anno dall'europeo gli interventi non sono fatti in prospettiva elettorale manca troppo tempo la card ma di consenso non necessariamente elettorale di consenso proprio di gradimento di gradimento delle cose che si fanno ma io torno all'idea che dicevo prima dell'orizzonte di legislatura e al tema delle tasse di cui parlava Giovanni poco fa e credo che questo governo se davvero manterrà la prospettiva della legislatura sia impegnato ad abbassare le tasse per tutti i contribuenti a fine legislatura questo è l'obiettivo c'è tempo e ovviamente la situazione data non consente di abbassarle drasticamente sappiamo quello che sta accadendo ma questa prospettiva delle elezioni europee ci dà una chiave di lettura che vale quasi per tutto se non per tutto vale per Salvini che mette qualche bastone dalle ruote vale per la dialettica che c'è tra PD e 5 Stelle vale se mi posso permettere anche in questa puntigliosità eccessiva accanita quotidiana che mi pare di notare nella concedere cose sul PNRR allora mi domando lo faccio a voce alta l'Europa in campagna elettorale in questo senso faccio un nome e un cognome mettiamo tutti la mano sul fuoco che dentro l'animo di Paolo Gentiloni commissario integerrimo non cominci a manifestarsi fino a prevalere la sua veste di possibile esponente candidato del PD alle europee e anche di esponente di rilievo oggi e ancora più domani dello stesso PD lo ha smentito per mettere in difficoltà il governo italiano siamo sicuri che non c'è questo atteggiamento anche involontariamente in cui la figura politica di Gentiloni si sovrappone a quella del commissario Gentiloni Gentiloni ha smentito di volersi candidare alle europee comunque insomma lo diciamo per dover non di essere del PD però non di essere del PD dubito che Gentiloni possa fare da solo non è un uomo di pazzi felini poi detto ermoghiola anche per la sua pacatezza ma Annalisa Cuzzocrea uno delle punte di diamante della nuova narrazione è le misure che vengono ribattezzate abbiamo visto una quattordicesima che è diventato un bonus governativo quindi loro hanno messo 40 euro poi l'hanno agganciato ai 500 della quattordicesima è diventato cavolo ho avuto uno stipendio in più e ora è arrivata la Meloni Card che ieri è stata trafitta con grande sagaccia dialettica qui da Pierluigi Bersani si può comprare lo zucchero ma non il sale chissà perché si può comprare il pesce crudo ma non quello surgelato allora queste cose funzionano o no? credo che sia stato un po' un boomerang c'è l'effetto luna nera a volte luna nera in questo momento qualsiasi cosa appunto questa poteva essere come dice Marianne Aprile un tentativo di risalire di dare una risposta alla sofferenza del paese noi stiamo vivendo un'estate in cui i prezzi sono aumentati vertiginosamente mentre noi parliamo ci sono persone che probabilmente l'anno scorso potevano permettersi una piccola vacanza in 4 in 5 e quest'anno non possono perché se uno va un po' in giro e si rende conto dei prezzi però che cosa arriva dal governo? questo è il quadro ed è quello che diceva anche Giovanni Floris spiegando bene la questione dei tassi di interesse e dell'attesa di un taglio delle tasse dopodiché in questo quadro arriva una carta di 380 euro meno di 400 euro all'anno a fronte del fatto che tu hai tolto un aiuto ai più poveri rilevando gran parte del reddito di cittadinanza e arriva addirittura con queste cose su cui si può fare ironia appunto il pesce surgelato no quello fresco sì i sughi pronti no sembra una canzone di Gabber che cos'è la destra che cos'è la sinistra guardate i surgelati le marmellate le tisane sono tremendamente radicaci soprattutto la questione della composizione del nucleo familiare va ai nuclei almeno di 3 persone quindi una madre povera con un figlio a carico single o vedova no e perché un single che non ce la fa no perché magari alla Naspi o anche perché solo perché single cioè insomma mi sembra che c'erano pochi fondi è evidente che c'erano pochi fondi che si è pensato di fare una cosa che ha un'immagine quindi le card no quante ne abbiamo viste card nel tempo però siccome abbiamo visto il titolo del tuo giornale Marianna chiediamo a Mazz una difesa della card se può come la vede lui sai io penso non mi metto nei panni di nessuno ma insomma avere o non avere 380 euro all'anno per qualche famiglia di quelle che voi avevo cavate in grave difficoltà può fare un po' di differenza ma prima c'erano il reddito di cittadinanza 2.000 euro prima aveva il reddito di cittadini tolte molto di più e che ci sono molti cave più di quanto ci si aspettava sì ma vale il motto piuttosto che niente meglio piuttosto questo è sempre vale per i 100 euro io dicevo che forse non ha l'impatto che ci sperava facciamo finire vale per i 100 euro contestati dalla Eastline poche settimane fa avere o non averli a lei non fa differenza a molti italiani sì no no ma ci tengo a dire che io non dicevo che non fa differenza io dicevo che probabilmente non ha l'impatto che si poteva sperare che avesse se fosse stata congegnata diversamente però nel frattempo mentre noi parliamo Giorgia Meloni è collegata con Vox con Valencia insomma il partito di extrema destra extrema addirittura spagnola che insomma la Spagna andrà al voto a brevissimo sta dicendo che questo in Europa è il momento dei patrioti però Giovanni Floris il momento dei patrioti che sta facendo sperare anche nella costruzione di un'Europa di domani con una maggioranza diversa da questa e più spostata a destra ieri insomma tutta questa narrazione di uno spostamento a destra dell'Europa ha subito apparentemente una battuta d'arresto con il voto sulla Nature Restoration Law sulla legge sulla diciamo l'intristino adesso adesso se mi dai un attimo non mi inquadrate non mi inquadrate la sentiamo torniamo da Giovanni Floris per chiederti per chiederti appunto se diciamo la costruzione di questa Europa di destra ieri appunto non si sia non abbia inciampato quantomeno e cosa ci racconta l'inciampo appunto che c'è stato ieri sulla legge della natura allora guarda dal mio punto di vista la destra che potrebbe essere alternativa a questa alleanza tra popolari e socialisti non è quella che è in mente Giorgia Meloni la destra che sta diciamo praticando Giorgia Meloni in Italia è una destra che in Italia arrivava al 4% la destra di siamo cristiani non vogliamo gli immigrati perché ci sostituiscono la donna e madre è una destra che in Italia è sempre stata al 4% ci fu un'evoluzione di questa destra con alleanza nazionale poi entrata nel partito della libertà in cui c'è stata una grande modernizzazione della destra e c'è stata l'adesione della destra a dei valori di liberalismo fondamentalmente il liberalismo di massa quante puntate avremo fatto in questi periodi su quanto Berlusconi ha dato alla destra anche Giorgia Meloni che è arrivata come grande novità votata sicuramente da più persone di quelle che pensano che dall'Africa ci vogliano sostituire che vogliano sostituire la nostra etnia sicuramente votate da più persone da quelle che si preoccupano dei diritti civili anche di categorie minoritarie in Italia sicuramente una destra che è più interessata non vorrei dire sempre la stessa cosa ma è estremamente interessata all'economia quando Giorgia Meloni continua a ribadire questi concetti che caratterizzerebbero la destra è un altro elemento che li allontana ma anche in Europa io non penso che diciamo essere l'anello di congiunzione con Ungheria e Polonia non credo che sia una grande carta da giocarsi quando si vuole portare la destra a essere alternativa socialisti purtroppo in Europa non tanto in Italia perché in Italia diciamo i moderati di Forza Italia sono in questo momento numericamente poco rilevanti in Europa la destra è molto diversa dalla destra che professa Giorgia Meloni attenzione io sono convinto che Giorgia Meloni non sia è un po' come quando si parla con i giornalisti di Libero sono sempre tutti meglio di quello che scrivono e così Giorgia Meloni è sicuramente meglio di quello che dice Lollo Brigida è sicuramente meglio di quello che dice Del Mastro è sicuramente meglio di quello che dice la russa quando viene intervistato sulla società civile sono molto più moderni di quello che appaiono sono costretti a apparire così perché si disegnano da soli così e pensano che questa sia la destra ma loro stessi sono più avanti sono un po' Jessica Rappi io non sono cattiva mi disegnano così allora giriamo questo interrogativo a Mazza io invece penso il contrario penso che ci sia il rischio di una mutazione genetica cioè la Meloni ha preso quei voti ha portato la destra oltre le colonne d'Ercole della sua storia perché si era posta come una variante diversa della destra berlusconiana e adesso avere dentro quelli che un tempo si chiamavano i berluscones dell'alleanza nazionale in posizioni egemoniche cambia il suo racconto finisce Davide contro Golia finisce la Giovanna d'Arco finisce la narrazione delle donne e si crea questo problema che l'immagine della Santa Anche copre tutto il resto l'immagine di quello sfarzo di quel buco di bilancio i cassi integrati che chiedono indietro i soldi non è una bella narrazione da destra legalitaria dai Mauro consentimi una provocazione tu vieni da quella storia perché ci sei vissuto dentro era la passione della tua giovinezza per farti contento uso un avverbio che piace molto a Giorgia Meloni lo sai che è una foto di te con buon tempo in redazione e i candelabri sdraiato sopra il tavolo sì sì l'ho messa in un libro addirittura quell'immagine tu che sei uno studioso del genere diciamo così no fammi dire una cosa uso un avverbio che usa spesso Giorgia Meloni quindi ti faccio contento lo dico sommessamente sommessamente e dico che le elezioni Giorgia Meloni le ha vinte con quello slogan che era un programma io sono Giorgia sono una donna italiana sono madre sono cristiana con quello ha vinto le elezioni esatto e con quello sta provando ad affermarsi anche fuori dai confini nazionali io vorrei farvi notare sempre sommessamente ma lo dico fuori dai denti che il 27 luglio la Meloni sarà a Washington ricevuta dal Biden dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa dall'Unione Europea c'è in palio il ruolo di alleato leale e fedele d'oltreoceano in Europa e questo ruolo lo sta provando a conquistare il governo Giorgia Meloni questa è una cosa da non sottovalutare in vista di equilibri internazionali l'Unione Europea vuole dire una cosa voglio solo provocare sono Dani sono una pittonessa e non faccio le casse integrazioni visto che Floris e Mazz hanno detto allora loro io penso che invece Meloni sia semplicemente davanti a un video se essere l'amica e l'anello di congiunzione con la Polonia e l'Ungheria o se essere l'amica di Biden non solo sulla questione ucraina ma anche sul resto cioè anche protagonista di una destra appunto più liberale e più moderna e credo che questo nodo lei non l'abbia sciolto perché in Europa ha votato il patto sulle migrazioni poi saltato contro Polonia e Ungheria ma poi chiama Vox e dice sono una donna sono una mujer come disse in quel famoso convegno alzando un po' i toni credo che questo non l'abbia deciso e che debba capire bene quale ruolo interpretare e che da questo passi anche che destra sarà quella dei prossimi anni abbiamo ancora una manciata di secondi vado da Giovanni Floris per diciamo che forte è la sua esperienza sicuramente ci saprà fare una previsione e cioè Matteo Salvini ci regalerà un altro agosto dei suoi per cercare come dire di movimentare la competizione interna al governo magari approfittando delle difficoltà di Fratelli d'Italia o è troppo presto per questo genere di calcolo? Allora dal mio punto di vista innanzitutto in tutti i nostri discorsi mancava un elemento cioè la debolezza dell'opposizione Giorgia Meloni è tenuta in piedi anche dal fatto che dall'altra parte non si vede un progetto alternativo e gli italiani non potrebbero affidarsi a un progetto alternativo e ci sono due elementi secondo me nel centro-destra che se ci fosse un'opposizione determinata e unita potrebbero creare problemi a Giorgia Meloni il primo è la natura della destra berlusconiana io non credo che tanti liberali ex socialisti ex laici accettino di declinare in una visione Vox dall'altra parte il pragmatismo della Lega perché Matteo Salvini che ha imparato probabilmente dagli errori che ha commesso quando era vice premier e ministro degli interni adesso vuole vedere diciamo tutte vuole gustarsi tutte le difficoltà di Giorgia Meloni Giorgia Meloni ha le difficoltà dell'immigrazione ha le difficoltà dell'economia ha la terribile che non riesce a sedare con 300 euro che anch'io sono convinto che piuttosto che niente è meglio piuttosto però sono sempre un euro al giorno e non credo che la gente che ha votato Giorgia Meloni perché non si trovava bene nel suo contesto sia contenti ha il problema dell'immigrazione che ha scelto lei come tema identitario ha il problema della cultura ha il problema dei rappresentanti che ha messo nell'istituzione ha tantissimi problemi e Salvini se li vuole gustare tutti noi saremo qui a raccontarli grazie a Giovanni Floris ti auguriamo delle meritatissime vacanze grazie a Mauro Mazza e Annalisa Cuzzocrea che è già rinvitata nel frattempo c'è Ludovica Ciriello che sta alla festa in unità è arrivata Elish Line Ludovica è arrivato il portavoce di Elish Line Mariana quindi ti faccio vedere ci sono tutti i colleghi che sono qui appostati ad aspettare perché a istanti la vedremo arrivare e allora lanciamo il break e torniamo subito dopo la pubblicità a vedere se è arrivata la segretaria del Partito Democratico intanto è arrivato Maurizio Landini che è di là e tra un po' arriva di qua state con noi grazie eccoci siamo tornati in ottima compagnia il segretario generale della CGL Maurizio Landini ben trovato grazie per essere qui in collegamento voi non la vedete ma noi sappiamo che è lì ed è pronta a irrompere ecco qua Ludovica Ciriello che sta aspettando dell'arrivo di Elish Line alla festa dell'unità di Roma però cominciamo subito dalla giornata di oggi è stata la giornata del temuto e dimezzato sciopero come è andata l'adesione soddisfatto del risultato l'adesione è stato assolutamente un successo i dati che abbiamo sono di una media superiore all'80% in alcuni casi al 100% quindi è uno sciopero che ha avuto un grande successo perché ci sono problemi molto seri sono Italo che sono anni che sono senza contratto e nel settore delle ferrovie vorrei ricordare che non si faceva sciopero per il salario si faceva sciopero per avere più assunzioni e soprattutto per migliorare la manutenzione dei treni perché vorrei ricordare la sicurezza vorrei ricordare a tutti chi viaggia in treno lo sa i ritardi che ci sono i guasti che succedono a volte se si è pendolari la qualità dei treni che ci sono quindi l'ossiopero di oggi non era semplicemente un ossiopero per i lavoratori ma era per migliorare anche la qualità del servizio e per migliorare la qualità del funzionamento perché tutte le volte che i lavoratori fanno delle iniziative non pensano solo a se stessi pensano anche alla qualità del lavoro in particolare in questo caso alla qualità del servizio e l'altra cosa che vorrei che fosse chiara e ho trovato singolare questo in quel settore l'ossiopero è regolato da una legge non lo puoi proclamare oggi per domani per arrivare a proclamarlo devi prima provare delle soluzioni e devi rispettare tutta una serie di norme e lo devi proclamare con mesi di anticipo vorrei addirittura ricordare che era già proclamato poi c'è stata l'alluvione e di fronte all'alluvione tutti i sindacati abbiamo deciso che non era il momento e l'abbiamo rinviato il ministro lo sapeva da due mesi che c'era questo ossiopero non è che si poteva svegliare qualche ora prima dell'ossiopero in due mesi non ha fatto niente la fermo perché lo vediamo il ministro vediamo e così commentiamo il modo in cui è stato annunciato lo sciopero di oggi dal ministro dei trasporti Salvini ho appena firmato l'ordinanza che dimezza lo sciopero dei treni indetto dai sindacati per domani e dopodomani perché lasciare a piedi un milione di italiani di pendolari di lavoratrici e lavoratori un giovedì di luglio con temperature fino ai 35 gradi era impensabile quindi mi adopererò perché le aziende incontrino i sindacati per arrivare a dare soddisfazione ai lavoratori delle ferrovie italiane senza però lasciare a piedi centinaia di migliaia di italiani che non ne hanno colpa e cos'è che non va questo messaggio lo sapeva da due mesi ecco appunto per esempio adesso dove si è svegliato improvvisamente ha scoperto oggi che era diventato ministro dei trasporti lo sapeva due mesi fa che c'era questo problema uno se vuole evitare questa situazione ha due mesi di tempo convoca le parti discute cerca di risolverlo non fai finta di convocare le parti sette ore prima che venga che inizi lo sciopero già proclamato però lui dice ho tutelato i consumatori dallo sciopero selvaggio no a parte che non era assolutamente selvaggio perché noi abbiamo rispettato insisto su questo l'atto l'atto illegittimo dello sciopero l'ha fatto lui perché la commissione di garanzia che è quella che determina verifica se tu fai delle cose irregolari non ha detto niente perché noi abbiamo rispettato le norme l'abbiamo proclamato tempo prima però lui dice io ho dimezzato i treni cancellati no facendo così ha fatto ancora più casino perché lui non lo sa non sa che in realtà qualche ora prima dello sciopero siccome hai già garantito dei servizi e hai già tagliato i servizi perché sanno che c'era un'adesione in realtà non ha cambiato nulla ha fatto solo casino perché non ha modificato il quadro qualche ora prima ma non ha salvato assolutamente nulla ha semplicemente tentato di fare la figura di quello che mette in discussione il diritto delle persone di scioperare in questo caso io insisto su un punto lui da ministro sapeva due mesi prima che c'era questo sciopero perché la legge proprio per tutelare anche i servizi dove devi hai la cura delle persone in questo caso della mobilità lo sciopero lo devi proclamare molto tempo prima proprio per dare il tempo di evitarlo è quasi come io ti dichiaro che farò sciopero se non mi risolvi lo lanci quindi se vuoi hai il tempo per farlo e in questi due mesi dove è stato dove era di che cosa si è occupato per poi scoprire l'ultimo minuto che tento tra l'altro vorrei ricordare che nel tentativo che lui ha fatto di convocare ieri pomeriggio i sindacati e le imprese le imprese non hanno cambiato posizione non è che i convocati hanno detto siamo pronti a aprire trattative adesso saltano fuori degli incontri perché la maggioranza dei lavoratori ha si operato perché si è visto che c'era un problema e insisto su un altro punto nelle ferrovie non abbiamo fatto lo sciopero per aumentare i salari l'abbiamo fatto per aumentare l'occupazione e per migliorare la manutenzione perché se lui vuole garantire i milioni di persone che hanno bisogno ha bisogno che si facciano investimenti che si mettono treni nuovi anche per i pendolari che si garantisca la manutenzione che è stata tagliata in questi anni per garantire dei servizi quindi noi noi abbiamo si operato per la qualità dei servizi i lavoratori hanno rinunciato al loro stipendio per migliorare la qualità dei servizi il ministro non sta facendo il suo mestiere questo devono sapere gli italiani non è che deve venire a fare il fenomeno che adesso lui è quello che con la bacchetta magica dà la colpa ai lavoratori che stanno si operando lui ha scoperto stasera di essere ministro dei trasporti dopo un anno in questo anno cosa ha fatto e dove è stato e dove era Landini sentendo la sua passione però devo girarle il dubbio che appare sui giornali di centrodestra che la prendono molto sul serio mettono sempre titoli di apertura prima pagina quando lei ha convocato tutto il centrosinistra per la prima volta al congresso della CGL la chiamavano il regista dell'opposizione e dicono ma questo non è il compito di Landini Landini è bravo ma lui non deve fare questo non può essere uno che combatte contro il governo perché deve rappresentare i lavoratori no a parte che noi al nostro congresso abbiamo chiamato anche il presidente del consiglio non abbiamo chiamato solo le forze abbiamo chiamato anche il presidente del consiglio noi i governi li giudichiamo per quelli che sono il mio mestiere non è essere di opposizione o di governo io faccio un altro mestiere io faccio il sindacato io debbo tutelare migliorare le condizioni delle persone che per vivere hanno bisogno di lavorare e io i governi li giudico per quello che fanno e siccome in questo periodo quello che stanno facendo sta peggiorando la condizione di chi lavora perché stanno aumentando la precarietà hanno liberalizzato di nuovi contratti a termine hanno allargato i voucher noi siamo un paese che ha 120.000 giovani che ogni anno se ne vanno via dal nostro paese laureate e diplomati e vanno a lavorare all'estero perché li prendono di più perché non sono precari perché si possono realizzare loro dicono i voucher fanno emergere dal nero danno una copertura a chi prima lavorava in nero e la cingella è contro assolutamente sì anzi se è così bello vivere con i voucher perché non si fanno pagare loro io glielo ho detto alla trattativa se è proprio così bello a chi l'ha detto? al ministro e al presidente del consiglio al ministro ha detto alla Meloni fatti pagare con il voucher io ho detto anche al ministro ma se è così bello essere pagati con i voucher voi perché non vi fate pagare con i voucher se è così bello essere a termine perché non vivete voi con i contratti a termine in forma precaria la cosa vera di questo paese non è un caso che metà degli italiani non vanno a votare perché è uno sfruttamento perché non ha senso perché le persone debbono essere pagate non solo con un orario salariale ma con anche i diritti chi oggi viene pagato con il voucher che è uno strumento per quel che vale concordo con lei inadeguato ma ieri era pagato in nero non può essere ma che cosa c'entra c'entra ma che cosa si applicano i contratti nazionali ma che cosa c'entra si facciano applicare i contratti nazionali se io lavoro non voglio solo essere pagato allora voglio avere anche i contributi per avere diritto alla sanità per avere le ferie per avere la malattia per avere i contributi in assenza di voucher l'alternativa non sarebbe l'assunzione non sarebbe l'assunzione anzi questa cosa viene utilizzata per mantenere il nero perché il voucher non c'ha un nome non c'è mai un nome c'è semplicemente che io posso comprare i voucher e poi dire se arriva una visita che è quello cominciato il giorno prima e posso decidere quando darlo non c'è scritto un nome è come andare a comprare un pacchetto di sigarette la persona non è una merce e non è un caso che noi siamo di fronte a un aumento del lavoro nero anche se non ci sono i voucher non raccontiamo il giudizio sul voucher lo condividiamo mi chiedevo l'alternativa sarebbe un'assunzione no l'alternativa è applicare i contratti nazionali e pagare le persone per quello che devono essere pagati a questo proposito sa cosa penso io che certe forme di lavoro dai voucher al lavoro chiamata al lavoro intermittente vanno cancellati non c'è bisogno che esistano forme del genere perché quello è rendere legale uno sfruttamento della condizione di lavoro e invece ci deve essere una soglia di diritti sotto i quali nessuno va e anche dei controlli però per fare i controlli bisogna che facciano gli investimenti sa quanto hanno tagliato ieri ero a Ragusa sa quanti sono gli ispettori a Ragusa in una provincia come quella non arrivano a 20-30 e di quelli che vanno in giro a fare le ispezioni parlano di 2-3 ispettori ci siamo a livello nazionale è un'ispezione di 20 anni criticano la Meloni Card perché sono benestanti perché sono tutelati sono i garantiti ed è facile dire 380 euro sono poco perché loro hanno le sicurezze sociali mentre per un precario per un povero questo è molto guardi dovrebbero secondo me vergognarsi perché hanno tagliato 3 miliardi sul reddito di cittadinanza hanno fatto cassa sul poveri con quel taglio che c'è non lo dico io lo dice l'alleanza contro la povertà ci sono 500 famiglie 800 mila persone che non avranno più il reddito di cittadinanza e che sono poveri uguali e tu avrai condizioni in cui semplicemente perché ti cambia l'età o ti cambia una composizione sei povero ma non hai più diritto al reddito di cittadinanza e di fronte a questi tagli che non so dove ha messo questi soldi questi 3 miliardi che risparmio sul reddito dove l'ha messo per i condoni dove l'hai ammessi li hanno usati per fare che cosa queste risorse e a questo punto tu dai una card di 380 euro all'anno ma chi vuoi prendere in giro io penso sia uno schiaffo alla povertà non è il meno che niente no questa logica qui del meno peggio deve finire perché la cosa che io invece dico che qui non sono andati a prendere i soldi dove sono i profitti e gli estro profitti non sono mai aumentati tanti lo dice la banca centrale europea che l'inflazione alta che sta colpendo quelli che stanno peggio è dovuta non all'aumento dei salari ma è dovuta all'aumento dei profitti e degli estro profitti e non stanno facendo nulla anzi il provvedimento che aveva preso Draghi che noi consideravamo ancora insufficiente di tassarli almeno fino a un certo livello l'hanno cancellato l'hanno tolto non se ne parla più anzi hanno aumentato i condoni fiscali hanno aumentato altre cose quindi è chiaro che siamo di fronte a un governo che colpisse la povera gente e che non colpisse i privilegi che dovrebbero essere colpiti però lo ha detto lei il suo compito appunto non è fare le parti del governo di qualcuno ma difendere i lavoratori allora passiamo all'opposizione che ha trovato una qualche forma mentre scorrono le immagini si è arrivata Lulega Cinello ci chiederà la linea non appena inizierà a parlare credo intanto proseguiamo poi ce la chiede ce la chiede lei però dicevo l'opposizione ha trovato una qualche forma di unità nella richiesta di un salario minimo che secondo l'Istat in audizione alla commissione al lavoro della Camera di ieri la cui sola introduzione provocherebbe il rialzo immediato delle retribuzioni per circa 3 milioni di lavoratori allora le chiedo perché i sindacati non sono tutti d'accordo sull'idea del salario minimo scusi fatemi capire cosa succede però grazie dobbiamo aprire il ciliello per dire che lavoro e povero non devono più stare nella stessa frase per dire che sotto una certa soglia non si chiama lavoro e quindi la nostra è una proposta che rafforza la contrattazione collettiva perché fa valere verso tutti i lavoratori e le lavoratrici di un settore il contratto più rappresentativo di quel settore al contempo fissa una soglia sotto la quale non si può scendere una soglia che abbiamo individuato in 9 euro il governo Meloni non si può girare dall'altra parte approvi la nostra proposta di salario minimo perché quei 3 milioni e mezzo di lavoratrici lavoratori poveri non possono più attendere in questo paese specialmente in un momento in cui c'è un'inflazione che morde ancora molto forte alle caviglie delle famiglie e guardate in un momento in cui il governo smantella l'unico strumento universale di sostegno al reddito è veramente assurdo che proponga una social card di 380 euro quindi a fare i conti un euro al giorno quando invece hanno veramente ridotto drasticamente le risorse di contrasto alla povertà in questo paese tra l'altro uno strumento escludente perché è accessibile solo per nuclei familiari di tre persone cosa vuol dire che le persone anziane che vivono da sole non meritano supporto che le coppie in difficoltà perché povere non meritano supporto che bisogna escludere tutti i percettori di reddito di cittadinanza che sono comunque persone che stanno in difficoltà economica e poi hanno escluso anche i comuni e i servizi sociali che sono invece proprio quelli che ci possono aiutare a capire quali sono le situazioni più complesse all'interno di un territorio che conoscono già le difficoltà maggiori delle famiglie quindi è chiaro che su questo noi continueremo a insistere con le nostre proposte e con le nostre idee grazie grazie siamo in ritardo dalle parole sembrava ci fossimo messi d'accordo con la società e lei che sta dando la linea alla Schlein o viceversa no credo che ognuno debba fare il suo mestiere debba fare la sua parte io penso che in questi anni insisto su questo dato se nel nostro paese metà dei cittadini italiani non va più a votare e io penso che questo sia il segnale di una crisi di rappresentanza democratica importante è perché buona parte di questo paese non si sente più rappresentato da nessuno e quello che si è determinato in questi anni secondo me è una rottura troppo forte tra il mondo del lavoro e la rappresentanza politica allora se la politica torna davvero ad occuparsi dei problemi materiali che le persone hanno della sanità che non funziona del fisco che è troppo alto dei salari che non va a finire della precarietà che è diventato un disastro per i giovani e non solo io credo che non fa altro che tentare di ricostruire una fiducia che è necessaria in una fase dove siamo di fronte a un cambiamento epocale dopodiché lei mi faceva una domanda rispetto alla questione del salario minimo bene io sono d'accordo se qualcuno non è d'accordo spieghi il perché ma noi non ci limitiamo la nostra proposta come CGL non è solo fare il salario minimo cioè che sia la legge che stabilisca una quota oraria noi chiediamo una cosa in più e la stiamo chiedendo da un po' di tempo noi vogliamo una legge che dica che i contratti collettivi nazionali hanno valore legale come si dice quindi sono applicabili a tutte le forme di lavoro anche al lavoro autonomo dove tu stabilissi non solo la quota oraria ma stabilissi che una serie di diritti la malattia le ferie gli infortuni il TFR le maggiorazioni le devi dare a tutti oggi questa legge non c'è e addirittura in questi anni sono aumentati i cosiddetti contratti pirata cioè firmati da soggetti che non hanno alcuna rappresentanza ma in assenza di legge basta che ci sia due soggetti privati un sindacato e qualcuno che dice che è un'impresa fanno un accordo lo applicano a qualcuno e questo ha un valore generale e questo a prescindere dalla rappresentanza e dalla rappresentatività che i sindacati sostanzialmente le imprese hanno quindi quella proposta per noi è un primo passo importante perché stabilire che nessuno può prendere meno di 9 euro come dice lei e lo dice l'Istat vuol dire che 3 milioni e mezzo di persone vedrebbero aumentate la loro quota per fortuna ci sono anche contratti che danno più di 9 euro ma oggi c'è la necessità di aumentarlo ma soprattutto c'è bisogno di estendere i diritti e di cancellare la precarietà oggi c'è una competizione tra le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare perché se io sono un lavoratore autonomo non ho determinati diritti e in questi anni si è allargato tantissima la legislazione che ha favorito questa diversità oggi hai i lavoratori a termine o i part time involontari stiamo parlando di 6 milioni di persone che in realtà sono poveri lavorando perché non arrivano superare 10-12 mila euro noi qua facciamo interviste in cui non si risparmia nulla quindi le stiamo mettendo l'obiezione più alta che è stata formulata la sua proposta io ci ho litigato però voglio farvela vedere e lei deve rispondere stia attento e poi la Fornero che le dice questa cosa contro il salario minimo a 9 euro poi dopo ha dato un colpetto alla cigella ma senta che cosa dice per combattere la sua proposta sul salario minimo personalmente ritengo che 9 euro possano essere anche un po' tanti forse 8 7 ma in ogni caso se ne deve discutere perché guardi che l'Italia è un paese che si è molto impoverito e noi abbiamo dei contratti oggi anche con le sigle dei sindacati diciamo quelli non pirata che sono che hanno 5 euro e non ci scandalizziamo più di tanto ha capito cosa dice la Fornero dice una cosa giusta la cigella non ha il polso del paese non sa che vanno fuori in mercato a 9 euro e poi dice avete firmato un contratto a 5 euro voi i sindacati confederati è vero ci sono contratti e sono anche contratti che sono anni che non vengono rinnovati perché in Italia ci può anche essere il fatto che le imprese non rinnovano i contratti però risponda bene a questa obiezione della Fornero rispondo a questa bene io dico che è vero che ci sono in Italia contratti che sono anche sotto i 9 euro è vero e dico anche naturalmente che ci sono anche contratti in particolare in questi settori e se guardiamo nel settore dei servizi del turismo dove c'è anche una frantumazione del lavoro e c'è una debolezza più difficile il sindacato non l'ha mica ordinato il medico non è che se fai una trattativa le imprese sono obbligate a fare un accordo con te dipende dai rapporti forza dipende dalla volontà però è sottoscritto anche lei la Cigene sono dieci anni che non si rinnovano cioè stanno parlando di contratti che le imprese che gli hanno fatti sono 7 o 8 anni che non si rinnovano certo che i salari sono bassi certo che non sono riusciti a modificarli perché anche se mi sono mobilitato le imprese non hanno accettato di aprire questa cosa e in Italia non c'è il fatto che se non rinnovi i contratti allora non hai gli incentivi fiscali allora hai delle penalizzazioni per cui un'impresa può tranquillamente non rinnovare il contratto e non gli succede nulla dipende dai rapporti forza ma il sindacato non mi ha ordinato il medico ci sono anche situazioni di debolezza sindacale di organizzazione e in alcuni casi c'è stato in questi anni una frantumazione delle forme di contratto e in molti casi l'altra cosa che è avvenuta è che hanno favorito la logica dell'appalto del subappalto del finto appalto e della finta cooperativa si però la Forneto dice se Landini lo porta a 9 euro poi vanno fuori il mercato con le imprese e crolla l'economia io dico una cosa molto precisa penso e lo dico anche a quei lavoratori che oggi hanno dei salari inferiori io penso una cosa molto precisa che è una cosa indecente ed è sfruttamento oggi lavorare a meno di 9 euro non è accettabile e le imprese debbono mettersi in testa che nel nostro paese i salari debbono strutturalmente aumentare e quindi c'è un problema di fondo di aumento dei salari e di redistribuzione della ricchezza non è più accettabile perché queste poi imprese di pulizia quando fanno gli appalti mica pagano 5 o 6 euro ma loro si fanno pagare di più negli appalti e dalle imprese che fanno e poi giocano sui diritti e sulla possibilità di licenziare le persone allora io dico a questi ricatti basta e penso da un certo punto di vista allora che è una legislazione che rafforza anche la contrattazione e che introduce anche un elemento non può essere che un contratto nazionale non si rinnovi mai e noi stiamo dicendo perché non mettiamo delle penalità un'impresa che decide di rinnovare perché gli devo continuare a fiscalizzare gli oneri sociali perché gli devo dare gli incentivi dello Stato perché può continuare a partecipare agli appalti e subappalti pagando meno le persone allora io dico vogliamo davvero affrontare questa situazione guardi che se ci sono dei limiti del sindacato io sono pronto ad assumerli e non sto dicendo che noi abbiamo sempre fatto bene tutto e dico che se c'è una situazione salariale è arrivato il momento di fare un tagliandino diciamo al sistema con onestà per questo io penso che c'è bisogno di una legge sulla rappresentanza che dia il diritto anche ai lavoratori di poter votare di sederci il sindacato ma che vincoli sostanzialmente anche questa situazione è chiarissimo però allarghiamo un attimo il discorso il governo ha annunciato un nuovo decreto flussi che fissa un piano triennale appunto di ingressi di lavoratori stranieri nel nostro paese dovrebbe portare questa cifra a 450 mila persone in tre anni è una buona notizia sono degli ingressi che possono creare tensioni tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri come la giudica questo innalzamento cospicuo il più cospicuo di sempre noi abbiamo un problema preciso demografico la nostra fondazione si chiama Di Vittorio ha fatto uno studio che ho visto che è stato diciamo così ripreso e ho riconosciuto come buono anche non solo dal sindacato ma anche da altri che ci dice che con la situazione che c'è attualmente cioè con l'invecchiamento che c'è e la riduzione delle nascite in Italia siamo destinati da qui a prossimi 10 o 15 anni ad essere 5 o 6 milioni di persone in meno questo problema c'è grande come una casa e non è nemmeno sufficiente riprendere una natalità normale per compensare nei prossimi anni questa situazione quindi già adesso ci sono più di 5 milioni di lavoratori non italiani che lavorano da noi che pagano le tasse e che danno un contributo a tenere in piedi questo paese ma questo tema di una politica di integrazione che vedrà sempre di più una mescolanza diciamo così anche di nazionalità diverse è un tema fondamentale da affrontare quindi io trovo assurdo quelli che in questi anni hanno fatto una politica in un qualche modo per dire che bisogna avere paure che bisogna chiudere i porti bisogna esattamente fare l'opposto bisogna farlo per integrare per dare servizi perché questo può essere una crescita per tutti e aggiungo un'altra cosa l'ho detto prima ma viene sottovalutato guardate che ogni anno ci sono più giovani italiani che vanno via dal nostro paese di stranieri che vengono in Italia e quando vanno via giovani che hanno studiato laureati, diplomati che vanno via noi perdiamo due volte perché perdiamo dell'intelligenza e guardate che molto spesso non tornano perché quando vanno all'estero essendo gente capace e intelligente li pagano di più si realizzano nel lavoro in molti casi hanno anche dei ruoli molto importanti nelle scelte che fanno allora qui torna all'origine non c'è solo il problema di come vengono qui a lavorare come regola anche in termini programmati questa cosa che io credo che sia un tema da affrontare ma insisto c'è da aumentare il livello dei salari e c'è da ridurre drasticamente la precarietà cancellando delle forme assurde c'è bisogno di aumentare gli investimenti per incentivare anche le imprese che ci sono per fortuna che affrontano questa cosa perché se noi andiamo a vedere si parla sempre di media di salari ma guardate che quello che abbassa i salari sono gli elementi di precarietà cioè non è la stessa cosa parlare di salari nei settori industriali o nei settori dei servizi non è la stessa cosa parlare per chi è part time o chi è contratto a termine rispetto sostanzialmente a chi non lo è ed è chiaro che questo aumenta le diseguaglianze questo prorompente Landini è diventata la quarta voce più discussa in Italia su Twitter molti commenti positivi ma devo leggere due uno Landini è in onda sta dicendo quello che ho pensato tutto il giorno ma era troppo affranta per spiegare dice una signora Roberta ma un altro dice sì Landini mi piace ma non ha spiegato come il salario minimo potrebbe cancellare i contratti pirata e il lavoro nero potrebbe cancellare i contratti pirata perché se si fa una legge chiarisco il salario minimo cancella i contratti pirata se si fa una legge che dice che il trattamento economico previsto dai contratti nazionali maggiormente rappresentativi non quelli pirata e quindi firmati diventa ha un valore di legge e si stabilisce che per fare un contratto nazionale i soggetti che lo fanno debbono avere una rappresentanza quanti iscritti hanno quanti voti prendono e i lavoratori interessati debbono poter avere il diritto di votare per dire che sono d'accordo con quell'accordo a quel punto i contratti pirata spariscono perché esistono solo i contratti che hanno queste caratteristiche che hanno un consenso e dentro a questo noi diciamo siccome il trattamento economico complessivo non è solo la paga oraria il trattamento economico complessivo è come mi paghi anche le maggiorazioni è come mi paghi se lavori quindi salgono di più salgono i salari dopodiché mi permetto di dire per chiedere noi pensiamo anche un'altra cosa non c'è solo da fare il salario minimo c'è da aumentare i salari quindi noi stiamo dicendo che bisogna rinnovare i contratti aumentare i salari stiamo presentando piattaforme perché vanno in questa direzione e qui dico questo noi col governo abbiamo un po' discusso perché il governo ad oggi non ha messo un euro per rinnovare i contratti del settore pubblico dalla sanità alla scuola 2022-2024 e se lui datore di lavoro non aumenta i salari è chiaro che è un messaggio anche nel settore privato noi nel prossimo anno avremo 7 milioni di persone a cui gli scadono i contratti nel settore privato più quelli pubblici quindi è chiaro che si aggiungono a quelli già scaduti però andiamo nel settore del privato abbiamo pochissimi minuti quindi andiamo ora nel settore del privato dove non sempre anche quando ci sono i contratti anche quando le tutele ci sono le cose poi vanno per il verso giusto le facciamo vedere una clip e poi la commentiamo insieme ho dato le dimissioni nel mese di settembre del 2022 e a novembre avrei dovuto incassare il mio TFR l'ultima parte che è di 44 mila euro mi è arrivata la busta ma il bonifico non è mai arrivato io ho lavorato per la Key Group per circa 22 anni anche io aspetto un TFR pari a 38 mila euro circa noi pensavamo di essere salvate dalla senatrice quando è subentrata nell'azienda Key Group invece c'è stato soltanto il declino giorno per giorno ero agente di commercio per la Key Group avanzo 64 mila euro noi agenti ci siamo trovati di fronte a un certo punto a un buco noi facevamo gli ordini e non arrivava la merce e l'azienda andava giù ci aspetta di diritto queste sono delle cifre che ci devono arrivare ma è per il nostro sostentamento sono sacre quello che chiediamo alla dottoressa Santanchè appunto è che onori i suoi doveri ecco allora segretario questi erano gli ex dipendenti di una delle società della ministra Santanchè che hanno fatto una conferenza stampa nel giorno in cui la ministra in senato procedeva diciamo alla sua pubblica istituzionale autodifesa che effetto le ha fatto vedere questi lavoratori insomma parlare in questi temi di una ministra beh è chiaro che io non conosco adesso nei dettagli quella che è la situazione tutto è certificato hanno fatto vedere ci credo per l'amor di Dio non mentono questi lavoratori no no ma ci credo dico non conosco la storia non conosco questa situazione è chiaro che siamo di fronte al non rispetto di norme al non rispetto di contratti al non rispetto di leggi banalmente questo perché esiste un fondo per garantire ma si tratta di insinuarsi di vedere cosa avviene e di capire cos'è aggiungo che ho visto anche altri servizi addirittura che indicano che ci sono persone che si sono trovate in cassa integrazione senza saperlo e via di questo passo quindi è chiaro che siamo di fronte a cose che se venissero confermate a tutti gli effetti banalmente siamo di fronte a una truffa lì siamo di fronte a delle cose che sono illegali e da un certo punto di vista è evidente che io penso che uno che ha giurato sulla costituzione e che quindi deve rispettare le norme e le leggi deve in ogni momento svolgere sostanzialmente questa funzione tanto più se ha una funzione pubblica che dovrebbe dare l'esempio a tutti ecco questo credo che sia il punto di fondo perché questo elemento per chiunque le fa non è un problema di Sant'Anché chiunque imprenditore si comporta in questo modo si sta comportando in modo illegittimo e in modo illegale e quindi da questo punto di vista deve in quanto tale assumersi le proprie responsabilità Landini c'è un commento sorprendente se risponde rapidamente lo leggo perché arriva da Mauro e la portaraffo firma del foglio giornalista liberista non un suo amico e scrive una cosa che è un grande elogio ma anche una potenziale critica dice Landini vedendolo ora è una personalità notevole e ha sostanzialmente sempre ragione sul lavoro ma non ha la forza per ottenere nulla lo ritiene un complimento o uno sfregio no no io penso che lui esagera un po' dicendo che non abbiamo la forza per ottenere nulla sicuramente dico non siamo noi che facciamo le leggi in Parlamento e molte volte le leggi che sono state fatte in questi anni hanno indebolito l'azione del sindacato io le dico quando io ho cominciato a lavorare non garantisce la sicurezza e la vittoria tanti anni fa se i lavoratori hanno dei diritti è perché si sono battuti per conquistarli non gliele ha mai regalati nessuno io faccio una distinzione le racconto una mia storia quando io ho cominciato da giovane apprendista ad andare a lavorare sono entrato e c'erano le leggi che mi tutelavano ho scoperto che c'era il sindacato che c'erano dei diritti quando ho cominciato a fare il sindacalista uscendo dalla fabbrica ero io che andavo nelle fabbriche per far rispettare le leggi oggi con le leggi balorde che sono state fatte in questi anni dalla destra e dalla sinistra se ci vogliamo dire la verità negli ultimi vent'anni io in alcuni casi se voglio tutelare le persone debbo non far applicare le leggi è chiaro chi ha pagato con i voucher io debbo dire che non deve essere pagato con i voucher qualcuno mi può dire sto applicando la legge quindi quando ci sono delle leggi del cavolo il problema è che vanno cambiate queste leggi perché queste indeboliscono qualsiasi azione sindacale dopodiché siccome io sono convinto che la gente ce n'ha piena le scatole di questa situazione io penso che ci sono le condizioni per cambiarlo io vengo oggi da una riunione fatta con una quantità di associazioni di società civile la più diversa che assieme alla CGL sta organizzando per il 30 settembre una grande manifestazione proprio contro la precarietà proprio per affermare la Costituzione proprio per una sanità pubblica perché la gente non ne può più e bisogna ricostruire quelle condizioni per cambiare questo quadro la seguiremo la racconteremo intanto la ringraziamo di essere stato con noi questa sera e noi torniamo tra pochissimo dopo la pubblicità ci sono ancora tantissimi ospiti si parla di soldi stipendi economie ma anche dell'ambiente state lì allora tutto sta accadendo molto velocemente in questa serata di Nonda in cui noi siamo su più tavoli informazioni in diretta gli approfondimenti di Marianna un partire straordinario qui in studio di nuovo per entrare sui temi dell'economia torna da noi Federico Fubini c'è Elisabetta Piccolotti c'è un opinionista pesante di Libero come Sandro Iacometti ma noi abbiamo la nostra inviata punta di diamante alla festa dell'unità dove sta parlando Ellie Schlein che fra l'altro ha toccato proprio questi temi ha attaccato credo il governo proprio sul PNRR allora Ludovica che succede? Sì Luca esattamente è la prima cosa che ha detto Ellie Schlein dal palco ha detto che ha detto che il governo fa una scarica barile che si concentra su alto sulle sue grane facendo riferimento ovviamente ai casi del Mastro di La Russa di Sant'Anche e che appunto non si assume le sue responsabilità per questo loro il Partito Democratico sono molto preoccupati prima che salisse sul palco peraltro noi abbiamo intercettato Ellie Schlein per chiederle se fosse in qualche modo abbastanza quello che ieri Giorgia Meloni ha detto quantomeno rispetto alla presa di distanza delle parole del Presidente La Russa e lei ci ha detto che no non è abbastanza né sulla Russa né tantomeno sul Sant'Anche e che il Partito Democratico non si fermerà con iniziative di vario genere fino a quando non otterranno le dimissioni della Ministra Sant'Anche con i comuni e con le società che gestiscono le case popolari Grazie Grazie Ludovica torniamo da te chiedici la linea quando ritieni di doverlo fare intanto la giornata oggi è stata la giornata dello sciopero straannunciato lo ha raccontato bene prima il segretario Landini arrivato diciamo sulla soglia dell'inizio e dimezzato dal Ministro Salvini al dimezzamento ci arriviamo prima però con Olga Mascolo vediamo come è andata mia madre si deve operare quindi ho necessità di andare giù mi hanno annullato già il volo aereo quindi da lì ho fatto quello del viaggio in treno ma anche questo annullato veramente non so più che fare io sono diretta alla Mezzia Terme in Calabria quello successivo che potrei comprare 220 mi sembra un po' costoso sono le 11.30 siamo alla biglietteria della stazione di Milano Centrale e questa è la fila chiamiamo anche Roma Damiano Cupelloni del comitato pendolari ci mostra tutti i treni cancellati e la lunghissima fila in biglietteria della stazione Termini la fila è lunghissima qui siamo alla stazione dei bus di Milano Lampugnano questa ragazza ha deciso come tanti di evitare il problema dello sciopero dei treni andando in autobus è stata una bella sorpresa perché mi sveglia la mattina e vedo che c'è lo sciopero la precettazione richiesta dal ministro Salvini non è andata giù a tutti ci spiega Angelo Cotroneo il trasporto nazionale ha deciso di fare ricorso al TAR alcuni capitreni che hanno scioperato ci raccontano le condizioni di lavoro per mancanza di personale siamo costretti a volte a fare gli straordinari per far sì che i treni partano vanno via esempio 15 persone e ne assumono 5 un carico di lavoro eccessivo 10 ore al giorno l'impossibilità a volte di riuscire a prendere delle giornate di ferie allora Elisabetta Piccolotti perché qui donna ma anche l'unica politica e quindi diamo prima a lei la parola per il guanto di sfida il tema è i trasporti in Italia sembrano impazziti arriva un grande flusso di turisti tutte le strutture saltano i biglietti vanno alle stelle non ci sono autorità di regolazione il sud le isole diventano inaccessibili perché i costi diventano folli stellari però voi non avete una ricetta o sì noi abbiamo una ricetta molto semplice quella di fare investimenti sul trasporto pubblico urbano e extraurbano quegli investimenti che chiediamo da più di 10 anni e che nessuno si degna mai di fare perché le priorità sono sempre altre come se non ci fosse la necessità di affrontare la transizione ecologica e quindi di fare in modo che le persone prendano il trasporto pubblico e non ci fosse la necessità di sostenere delle infrastrutture vitali per il paese quei territori che sono isolati dal punto di vista infrastrutturale stanno morendo economicamente io sono Umbra e ne so qualcosa i calabresi che ho visto ne sanno qualcosa i sardi i sardi ne sanno tantissimo sono disperati non ci sono aerei non ci sono voli ci sono difficoltà proprio sul terreno della continuità territoriale ogni volta si dice non ci sono sufficienti risorse allora qua c'è da capire bene che cosa vuol dire non ci sono sufficienti risorse perché abbiamo approvato ieri una delega fiscale che sostanzialmente fa tutta una serie di detassazioni di misure nemmeno troppo così diciamo incisive e non affronta il tema di tassare i soldi dove sono e dove sono i soldi sono sulle rendite sono nei grandi patrimoni sono sui redditi più alti sono nell'economia finanziaria tutto questo non esiste perché quelli come la Santa Anche devono agire indisturbati vendono e comprano case guadagnano un milione in 58 minuti indisturbati anche dal punto di vista il più possibile del fisco il risultato è che poi non ci sono mai le risorse per fare quello che serve alla maggioranza delle persone perché l'hanno pagato l'atto no indisturbati dal punto di vista del governo ovvio che hanno pagato l'atto sto dicendo che fanno delle operazioni che fruttano gigantesche ricchezze e che non producono niente perché non hanno prodotto lavoro vendendo e comprando quella casa però io penso che il fisco dovrebbe guardare soprattutto lì e infatti propongo una patrimoniale naturalmente questa cosa non si può mai fare e i treni sono messi però piccolotti io la interrompo solo un attimo e vado da Fubini che nella mia diciamo geografia dei giornalisti che mi spiegano cose è l'esegeta del PNRR quindi in teoria i problemi delle infrastrutture anche quelli molto diciamo incrostati che vengono da lontano nel nostro paese erano le risorse c'erano arrivavano dall'Europa il PNRR finalmente adeguiamo la rete finalmente è che è andato storto nel mezzo però perché se stiamo scioperando la terza rata di PNRR è in ritardo la quarta forse slitta insomma cosa è che sta andando storto stiamo perdendo il treno magari non sta andando nulla storto nel senso che l'alta velocità al sud è uno dei progetti che c'erano che è entrato nel PNRR che è finanziato ma non ma non si fa in in qualche mese non si fa in qualche anno dunque sicuramente è molto lento più lento di quello che si sarebbe voluto ma non è detto i finanziamenti ci sono per fare queste cose quindi era sbagliato aver inserito quelle date di realizzazione quel lasso di tempo di realizzazione posso fare un esempio Orte Falconara io la prendo da vent'anni è sempre lo stesso treno sono vent'anni che devono fare il raddoppio e non lo faranno nemmeno col PNRR perché ho saputo che toglieranno questa tratta diciamo da quelle finanziabili che non è più di vent'anni non è l'unica tratta finanziabile che facciamo che ve l'ha tolta insomma il tema è un altro facciamo finire i furbini sicuramente di Orte Falconara non so nulla e per adesso non voglio né difendere né offendere il governo come? la tua inconsapevolezza di Orte Falconara domani prendiamo il treno insieme esatto esatto allora poi i ritardi li subiamo tutti per carità però il tema è che ci saranno alcuni progetti se sono in ritardo che saranno finanziati con altri fondi perché notoriamente i fondi del PNRR sono spendibili fino al 2026 dopodiché chiaramente siamo in ritardo su tantissime cose ma dire che siccome siamo partiti con il PNRR nel 2020 e dobbiamo avere già i treni è pensiero magico questo non è possibile cioè ci vogliono tanti anni a volte troppi dipende dalla mancanza dei soldi a volte sì più spesso dipende dai problemi amministrativi le autorizzazioni e quant'altro questo governo sta facendo abbastanza no quello precedente no tutti i governi stanno facendo qualcosa dopodiché chiaramente ci sono dei problemi su come si dice oggi si mette a terra il PNRR però diciamo tirare un filo dritto dallo sciopero di oggi alla tassazione sulle rendite dei capitali al PNRR cioè il rapporto di causa-effetto è più complicato di così credo almeno allora qui io e Marianna non smussiamo le differenze anzi le esaltiamo e devo dire a Isabetta Piccolotti che non vedeva la faccia Iacometti come la vedevo io era un uomo che stava per avere una sofferenza profonda anche castrica perché gli leggeva gli occhi lui giornalista liberale una critica alla Piccolotti a posizione antimercato immagino era quello il sospiro allora il problema è come ha detto nell'ultima fase del suo intervento Fubini è che lo sciopero non c'entra niente con lo sviluppo delle infrastrutture non c'entra niente con il PNRR non c'entra niente con i ritardi negli investimenti nelle infrastrutture era per le manutenzioni la piattaforma era per le manutenzioni la piattaforma era per le manutenzioni è il frutto ultimo di una piattaforma e rivendicazione che va avanti da tanto tempo e sono problemi di rapporti tra i sindacati e Trenitalia e Italo che riguardano orari di lavoro che riguardano gestione del personale che riguardano gli stipendi che riguardano gli straordinari sono rivendicazioni sindacali manutenzioni e tratte garantite però sì manutenzioni e tratte garantite ma riguardano l'utilizzo del personale in quelle manutenzioni non riguardano il fatto che tu abbia fatto o meno una tratta non gli frega niente ai lavoratori se tu sviluppi l'alta velocità al sud al nord ma non è vero assolutamente sì gli interessa ai lavoratori che se tu sviluppi e apri quei cantieri dai condizioni dignitose e valorizzi il lavoro di chi opera in quei cantieri non è che sono interessati allo sviluppo infrastrutturale del paese poi ci sono anche delle chiaramente più si sviluppa l'infrastruttura e più ma perché sbuffavi qual è la cosa che ti ha fatto più arrabbiare della piccolotta perché non possiamo collegare lo sciopero alla patrimoniale alla Sant'Anche ma che cosa c'entra se facciamo la patrimoniale non fanno più lo sciopero i sindacati ma stiamo uscendo di testa nel senso non ha nessuno scusi c'è un problema di assunzioni per fare le assunzioni serve la patrimoniale per fare le assunzioni servono risorse per fare le infrastrutture servono risorse che ha un bilancio ferrovie dello Stato può prendere ferrovie dello Stato sta fuori dal perimetro della pubblica amministrazione ferrovie dello Stato sta fuori dal perimetro della pubblica amministrazione per fare alcuni investimenti infrastrutturali o anche per fare il welfare potremmo prendere le risorse dal fisco dalla fiscalità generale conosco bene le motivazioni dei sindacati lo sciopero è l'ultimo atto di una insofferenza dei lavoratori che va avanti da anni e una mancanza di risposte da parte dell'azienda che non c'entra niente col PNRR con gli investimenti né tantomeno con la Sant'Anchea né tantomeno con la patrimoniale per quanto riguarda il PNRR e chiudo le ferrovie hanno fatto la Sant'Anchea c'entra sempre con tutto no ho detto che non c'entra lo sciopero è un modo di fare imprese perché mentre quelli fanno il sciopero lì c'è la Sant'Anchea di fare imprese abbastanza il prodotto e chiudo solo sul PNRR il PNRR gran parte dell'avanzamento dei lavori del PNRR è stato fatto perché le ferrovie dello Stato e lo Stato hanno sostituito interventi programmati già da tempo e li hanno inseriti nel PNRR quindi la maggior parte dei cantieri aperti la maggior parte dei lavori fatti col PNRR dipende proprio dalla capacità di RFI che fa l'infrastruttura perché non è chiaramente Trenitalia lo sciopero era contro Trenitalia non era contro RFI RFI è la rete e la società gestisce la rete ferroviaria chi fa l'infrastruttura chi fa l'alta velocità è la rete ferroviaria italiana e non è Trenitalia quindi sono due cose completamente differenti RFI è uno dei principali sponsor diciamo e artefici del PNRR perché lo Stato giustamente ha inserito alcuni programmi Sandro ma servono gli investimenti che chiede la Piccolotti o no? ma certo che servono ma li stanno facendo le ferroviarie dello Stato sono la nostra punta di diamante del PNRR Allora io però senza tornare adesso a riaprire i collegamenti messi in discussione fatti da Elisabetta Piccolotti però una cosa diciamo è innegabile è che in questo paese se vai per occuparti di una stortura scopri un sistema storto noi avevamo chiesto a Carlo Marsilli di andare sulle spiagge italiane negli stabilimenti per raccontare il caro prezzi e lui ci ha portato indietro un servizio che inanella una serie di cose che non vanno non solo sui prezzi lo vediamo e poi lo commentiamo insieme una metafora italiana caro Mariana perfetta Carlo Marsilli Gallipoli la perla del Salento il mio cocco non perdona come il sinistro di Maradona un mare cristallino e una costa disseminata in stabilimenti balneari e per godere in tutti questi servizi i prezzi ad oggi sono questi caffè un euro e cinquanta una bottiglia di birra cinque euro e i panini partono da sette euro quanto ci costa questa vintarella baldacchino ad esempio quanto lo fa? allora noi siamo cinque abbiamo pagato 32 testa 32 testa per tutto il giorno 160 euro diciamo due lettini un ombrellone e quaranta due lettini un ombrellone e quaranta siamo ancora a luglio e dire che la quasi totalità di questi lidi con pochissime eccezioni paga una concessione demaniale annuale che uscilla tra i 10.000 e i 3.500 euro e voi qua di concessione quanto pagate? tanto lo sapete già non c'è più che ve lo dica io sui 3.500 euro ma non è solo il costo della concessione il costo reale e poi tutto quello che c'è dietro tutta la tassazione che abbiamo ma siamo qui a 32 anni quindi da 32 anni che vi rinnovano la concessione che abbiamo la concessione ok insomma un po' di concorrenza non andrebbe bene se ci sono i requisiti voglio dire noi possiamo rimanere perché concorrenza inesistente e concessioni irrisorie e poi c'è il tema del lavoro stagionale sentite che condizioni mi hanno offerto in questo lido io sto dando a tutti i ragazzi 6 euro l'ora non è che se fai 8 ore in vostra pagata ci sono 8 ore si fa un contratto per esempio 18 ore la settimana nello stabilimento successivo gli orari sono una follia alle 7 alle 9 di sera qua all'estate non c'è vita arrivi a casa ti lavi mangi un po' si chiedono gli occhi e in un terzo stabilimento le paghe da 6 euro diventano addirittura un lusso qua più o meno quanto danno? sono 900 euro 900 al mese? sì per quante ore al giorno devi fare? 8 ore qui resti 900 euro almeno sono tutti in busta paga o sono cash? sono metà cash e metà in busta 8 ore al giorno per 900 euro al mese significano 3,75 euro all'ora che tutto questo sia una beffa ce lo conferma anche il dipendente di uno stabilimento 3.000 euro di concessione quanti giorni ci metti a fare a incassare 3.000 euro? 3.000 euro di concessione neanche mezza giornata e non dirmi che non ti avanzano i soldi a fine stagione tutti ci si comprano case vacanze banchine tutti tutto e i controlli dove stanno? eh sì la scorsa settimana tutti i ristoratori sono stati sicurati un sacco di multe ma il problema dei bagni è che i dipendenti sono complici i proprietari gli dicono che quando arrivano gli ispettori devono dichiarare che il contratto rispecchia le ore effettivamente lavorate ovviamente questo non vuol dire che tutto un settore non si tratta di demonizzare però questa inchiesta e il nostro grande Marzilli entrano ci fanno sentire la voce delle persone e ci dicono che il mondo reale è questo non c'è potere di contrattazione o accetti 3,65 euro metà in nero oppure ti attacchi al tram è veramente frustrante Fubini conosce i macrodati che spiegano questo fenomeno i dati sul nero sull'evasione che cosa c'è da dire per spiegarlo? tantissime cose ci sarebbe da dire vai tu puoi parlare ora qua ora no una cosa è che il rapporto sull'evasione fiscale che viene fatto tutti gli anni fa vedere che diciamo la probabilità di evasione nel lavoro autonomo è mi parla il 67% ed è aumentata negli ultimi anni sostanzialmente su 100 euro che in media i lavoratori autonomi dovrebbero pagare ne pagano 33, 32, 33 prima ne pagavano quasi 40 nei primi anni stanno pagando meno e l'altra cosa che mi colpisce molto diciamo anche hanno subito la pandemia sono quelli che sono rimasti chiusi ma l'evasione non è sui cavi l'evasione è sui redditi dunque l'altra cosa che mi colpisce molto è che se uno guarda le entrate fiscali in Italia erano aumentate molto per esempio l'IVA aumentava il Ministero dell'Economia dai dati diciamo questo mese rispetto all'inizio dell'anno adesso e un anno fa dunque le percentuali diciamo che ne so da primi sei mesi dell'anno rispetto ai primi sei mesi dell'anno scorso l'anno scorso i primi sei mesi facevano vedere più 10% di entrate fiscali più 20% dell'IVA l'IVA è il termometro il termometro dell'evasione adesso malgrado i prezzi che sono saliti molto l'inflazione e la crescita che dovrebbero dare più gettito è piatto che vuol dire che in termini reali è meno 10% e anche più di meno 10% l'IVA cioè le imposte indirette nell'ultimo mese hanno un dato negativo dunque la domanda è se non c'è una ripresa di evasione fiscale in Italia questa è una domanda molto sembrata una domanda retorica però questa me la assumo io la responsabilità però passo la palla a piccolotti perché appunto noi a Carlo Massiglia avevamo chiesto di fare un pezzo come se ne fanno tanti d'estate sul caro prezzo il caro ombrelloni è venuto fuori appunto non solo l'annosa questione delle concessioni dei maniali diciamo molto convenienti in barba tra l'altro alle direttive europee che pure dovremmo recepire ma lavoro povero controlli carenti addirittura complicità tra gli sfruttati e gli sfruttatori brava Mariana la risposta è grazie ma tu mi dai sempre i voti anche meno la cosa il punto è basta il salario minimo a 9 euro su cui diciamo l'opposizione ha trovato una compattezza e che avete presentato sotto forma di proposta di legge per risolvere tutto questo problema o anche solo quello del lavoro povero naturalmente da solo il salario minimo non basta però il salario minimo è un grande passo avanti soprattutto se accompagnato da una serie di controlli potenziati abbiamo sentito prima Landini dire che quanti sono gli ispettori nelle province sono pochissimi li stanno tra l'altro tagliando molti li mettono in ufficio e una serie di norme diciamo che potenziano i diritti dei lavoratori penso ad esempio alla legge sulla rappresentanza che andrebbe accompagnata con quella col salario minimo penso a una riforma del mercato del lavoro che possiamo definire alla spagnola visto che ora ci sono le elezioni spagnole cioè una riforma che riduca molto sfoltisca molto i contratti precari penso anche a forme di riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario che ormai è venuto il tempo di cominciare a mettere in campo perché c'è l'intelligenza artificiale c'è l'automazione abbiamo anche questo tipo di problemi quindi è evidente che la coalizione cosiddetta progressista e noi di alleanza verde e sinistra spingiamo in questa direzione deve mettere in campo un progetto sul lavoro che ci faccia recuperare due decenni persi perché quando Landini prima due minuti fa diceva noi abbiamo un problema di forza del sindacato nella contrattazione e i salari crescono quando il sindacato è forte confligge e riesce a strappare gli imprenditori dei salari più alti ti sta dicendo qualcosa di vero allora quei lavoratori che abbiamo visto nei la posso interrompere tipo le faccio vedere un lavoratore perché poi va a lavorare ci deve mollare quindi aggiungo una testimonianza e poi la faccio concludere giuro e arriviamo agli acometti perché abbiamo in collegamento Roberto Red Sox Mantovani Bologna 5 un tassista di Bologna che sta facendo molto discutere buongiorno Roberto ben arrivato gli hanno squarciato le gomme è un tassista lo dico per i pochi che non lo conoscesse buonasera a voi buonasera che sta da qualche settimana pubblicando ogni giorno i propri guadagni su Twitter indicando quelli che sono derivanti ecco qui un tweet tipo di Roberto Red Sox il turno dalle 19 alle 7 del 12 luglio 167 euro in contanti 383 euro con pagamenti elettronici in caso l'ordo 550 euro Roberto perché lo fai disperato ragazzo nostro e quali sono le conseguenze che stai tristemente raccogliendo che è una posta un po' sgradita ogni tanto raccontaci beh perché lo faccio diciamo che è una storia molto lunga e ci vorrebbe un paio d'ore di trasmissione quindi è un po' di tempo che sono in battaglia con la mia categoria nazionale perché non mi vanno bene i nostri atteggiamenti ecco continuiamo a rimanere ancorati a un sistema antico vecchio di protezione del rimanere sullo status quo non deve cambiare niente non dobbiamo migliorare dobbiamo continuamente proteggere i nostri interessi nella maniera antica facciamo tante di quelle cose ridicole e non ci presentiamo bene al pubblico ai cittadini ai turisti e alle amministrazioni quindi questa mia iniziativa di trasparenza mi ha anche stupito cioè mi ha lasciato essere fatto a me perché ho visto una reazione da parte dei colleghi di tutta Italia devastante quindi insulti minacce atti vandalici atti minacciosi e sono tutti scandalizzati tutti i tassisti scandalizzati delle mie cifre quindi tutto questo stupore che loro esternano è un danno per loro perché si stupiscono così queste sono le mie cifre reali vere Roberto dobbiamo anche spiegare che un incasso lordo per un tassista non è tutto guadagno c'è quello che si paga di reddito presunto c'è quello che costa la manutenzione dell'auto c'è quello che si spende per il carburante quindi magari molti suoi colleghi non c'è più da andare e dicono attenzione che se uno fa il conto dice cavolo questo guadagna 15.000 euro al mese è ricco non le restano 15.000 euro in mano no assolutamente ma neanche alla metà perché sappiamo bene che la macchina costa le spese il carburante le tasse le spese di cooperativa insomma le spese sono enormi la manutenzione quindi io chiaramente scrivo incasso lordo poi chi ha una partita IVA lo capisce anche da solo non si può confondere incasso lordo dal guadagno certo è che anche queste cifre bisogna dirlo ammetterlo che raggiungiamo a Bologna in altre città proprio fanno fatica e non riescono a raggiungerle a Roma tecnicamente per esempio non possono raggiungere queste cifre in altre città non se lo sognano diciamo che Bologna è strutturata e ci fanno lavorare bene che la mia operativa sfrutta i tassisti a disposizione di Bologna e ci fa lavorare alla grande quindi il modello Bologna andrebbe un po' esportato per fare efficienza a livello nazionale ma purtroppo a livello nazionale siamo un disastro completo bene chiarissimo però vogliamo andare subito sappiamo che deve andare a lavorare quindi non lo teniamo lì collegato perché non vorremmo mai che il tweet Fubini vuole fare una domanda c'è una domanda di Fubini prego conosceva la storia di Ressop sì sì la conoscevo sappiamo tutti delle risposte negative il vandalismo eccetera ma ci sono stati invece dei suoi colleghi da altre città o a Bologna che invece hanno detto bravo hai ragione ti sostengo io per altre certe mie battaglie per favorire gli incassi con il post cioè smetterla di inventare le scuse che il post è rotto non funziona non c'è la rete non c'è la carta e anche di finirla di lamentare che facciamo la fame per colpa delle commissioni bancarie perché non ci crede più nessuno diciamo che avevo degli amici che mi stavano vicino però in maniera segreta perché non potevano esporsi come ho fatto io a questo punto invece dichiarando gli incassi sono spariti anche quegli amici non ci sono più sono svaniti perché perché sto creando un danno anche a loro cioè si vede che sono costretti a pagare qualche migliaio di tasse in più alla fine dell'anno perché dovranno fare un po' i paragoni con me quindi amici zero dunque neanche uno che storia potente Roberto grazie poi noi ci ricolleghiamo per sapere se sei ancora vivo anche Mariana molto preoccupata tra due e tre giorni continuiamo a seguire la tua protesta infatti che adesso qui ci cacciano via perché no 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 ma infatti ti salutiamo ma continuiamo a seguire la tua protesta su Twitter adesso qui ci cacciano via perché siamo anche in un posto spegni il transponder grazie grazie Roberto Mantovani a cui lo dico perché se no siamo maleducati abbiamo già avuto modo di conoscere di raccontare le sue le sue proteste però io ho un debito di tempo e di risposta con Elisabetta Piccolotti perché l'ho interrotta per ragioni evidenti però aggiungo un elemento alla ricerca di soluzioni che prima stava facendo Piccolotti cioè serve un po' anche l'elemento umano però serve anche insomma a un certo punto in Italia si smetta di evadere ora la dico male ma insomma non è che possiamo parlare di macroeconomia e de-responsabilizziamo il singolo la storia di Roberto ne è l'esempio il vuoto attorno ma grazie Roberto ma ce ne fossero tanti cioè ormai l'Italia è un paese in cui chi paga le tasse regolarmente vuole dichiarare con trasparenza quanto guadagna viene assaltato da tutti gli altri ma questo ci dice dello stato pazzesco in cui siamo ridotti e lo stesso vale per i balneari alla fine per farsi dire quanto guadagnano alla fine della stagione bisogna andare con le telecamere nascoste distorcere la voce non si è trovato un balneare che dicesse allora questi sono i miei conti te li faccio vedere e vediamo quanto guadagno perché perché in Italia c'è questo problema di trasparenza prima stavo dicendo che l'altro problema è che è molto difficile sindacalizzare quei lavoratori che sono lì è per questo che sono complici perché non hanno nessuna rete di supporto sono super precari mentre quelli che hanno scioperato oggi sono sindacalizzati hanno scioperato all'80% sono compatti fanno una lotta e cercano di portare a casa le loro richieste che erano diverse alcuni lo stipendio altri le manutenzioni sono vaso di corso in questo caso sono vaso di corso Iacomeci spiegandolo questo nostro viaggio questo bestiario italiano attraverso gli stabilimenti è straordinario ci sono persone che costruiscono passarelle per i disabili che tengono pulite le spiagge e quindi c'è il meglio e il peggio in ogni categoria però attenzione Sandro io voglio un Red Sox per i gioiellieri da 7000 euro per alcuni odontoiatri non me ne vogliano che sono incapienti per tutti quelli che non hanno messo il post perché la destra ha detto no il post non deve essere obbligatorio quindi adesso voglio il tuo outing che tu mi dica cosa faresti di fronte a questi redditi presunti teorici allora io sicuramente non introdurrei il salario minimo perché questa quota di nero e di sommerso enorme che conosciamo e che è sempre la stessa al di là di chi governa al di là dei proclami al di là di chi dice che noi combattiamo il nero e noi siamo contro gli evasori e quegli altri invece favoriscono gli evasori e favoriscono il nero è sempre la stessa la quota di nero è sempre la stessa la quota di evasione è sempre la stessa e questo purtroppo non identica questo ci più o meno oscilla sulle stesse la quota di evasione è stata agli 80 e 100 miliardi l'anno da 10 anni e da 20 anni è andato terrificante governava il centro-sinistra governava il centro-destra è sempre la stessa è abbastanza la stessa è abbastanza la stessa però poi magari finisco dopo il ragionamento ci sono dei governi che hanno fatto magari di più che hanno ottenuto dei risultati ma risultati molto molto leggeri devo dire molto leggeri oscillazioni sulle quote comunque il fatto che ci sia una quota così irrilevante di nero fa sì che se tu imponi un salario più alto agli onesti li mandi a gambe all'aria perché loro devono fare devono concorrere e competere con questo nero e con questa situazione quindi se c'è lo stabilimento che paga in nero a 3 euro e tu costringi lo stabilimento che è onesto e paga le tasse e dichiara tutto a pagare 9 euro l'ora lo mandi a gambe all'aria quindi devi fare i conti nel momento in cui tu stabilisci pagano anche di più gli stabilimenti onesti i bagnini gli stabilimenti onesti li pagano a tariffa di mercato noi siamo andati in un settore che è quello dei servizi dove ci sono le paghe con i contratti collettivi nazionali a 5-6 euro l'ora perché ci sono i contatti collettivi nazionali che l'Andini firma a 5 euro no l'hanno rinnovato un mese fa quello della vigilanza privata e vale 5,60 o 5,50 euro l'ora perché l'Andini firma un rinnovo di un contratto e sbarra e bombardieri firmano un rinnovo di un contratto a 5,50 euro l'ora sono degli sfruttatori sono degli approfittatori quando c'è un contratto le condizioni di quel posto di lavoro inducono una debolezza di una controparte l'ha spiegato il salato minimo è la sua idea o l'Andini con il salato minimo ti sottrae la debolezza ha bisogno del governo ha bisogno di una legge per avere forza contattuale è così i diritti del 900 è così quindi ammette il suo fallimento dal punto di vista negoziale il sistema contemporaneamente però lui ammette anche che ci sono dei settori produttivi dove i margini di guadagno sono molto bassi e dove la concorrenza è quella del nero e del sommerso allora noi possiamo fare in modo che il sommerso diminuisca sì abbassando le tasse mettendo meno regole è l'unico modo ma che vent'anni ma vent'anni è la sinistra che governa e il nero è sempre uguale ma quando mai la sinistra è governata c'era la Lega ma come no e chi c'era ma magari non c'eravate voi ma c'era il PD c'era ma come la Lega ma dove due anni è stata la Lega dai ma dai dal 2013 oggi chi c'era la Lega al governo dai non c'è bisogno di recuperare cose passate Gentiloni Renzi la Lega era non c'è bisogno la Lega Gentiloni e Renzi sono premi ma hanno diminuito hanno combattuto il sommerso ha diminuito il sommerso ma guardi io non giustinevo scusate l'interruzione posso fare una domanda Letta ha diminuito il sommerso se vuole gliele dico il baglio del cuneo fiscale veramente no diventa difficile così veramente poi in generale non ci piace che ci si parli addosso quindi ritroviamo la calma e io nella mia veste ufficiale faccio una domanda perché non c'è bisogno di andare così indietro nel tempo perché proprio insomma nel pochissime pochissime ore fa il centrodestra alla Camera ha bocciato un ordine del giorno su cui pure il sottosegretario della Lega Freni aveva spesso parere favorevole un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico che proponeva semplicemente una campagna informativa contro l'evasione fiscale ok? no è un come dire un reato sentinella direbbe qualcuno giustizialista però insomma questo mi serve come assist per Fubini per chiedere a Fubini una valutazione su diciamo le misure anti-evasione che sono state visibili in questi primi dieci mesi di governo ce ne sono state a sufficienza sono state applicate insomma come potevano questa è chiaramente una domanda tendenziosa trabocchetto io non so fingere è così no allora se vogliamo noi facciamo domande trabocchetto ci sono state delle cose che hanno dato dei segnali che sono come dire dei segnali impliciti ma molto chiari la polemica sul post che poi è rientrata il primo ministro che dice che le tasse sono pizzo di stato non sono segnali che esattamente incoraggiano le persone come dire però se posso dire a me la cosa che veramente dopo quanti mesi di governo nove mesi veramente mi colpisce è che alla fine qual è la politica economica di questo governo non è molto chiaro tanto è vero che noi abbiamo credo l'opposizione più debole e divisa della storia repubblicana che paradossalmente sta dominando il dibattito della politica economica con il tema del salario minimo e questo perché si è inserita in un colossale vuoto si parla di PNRR che è una contronazzazione rispetto a quella che si fa di un'opposizione che non riesce a imporare la proposta è gemone perché c'è un vuoto interessante è incredibile che questa posizione così divisa che non riesce a prendere il filo di nulla che si litiga su tutto sta dominando il dibattito di politica economica con una sua proposta perché non c'è la sensazione che il governo stia portando il paese da una parte e da un'altra però dici cosa ne pensi dei pro e dei contro e penso che penso che da un lato c'è appunto un governo che in fondo strizza l'occhiolino agli evasori e però non dà una direzione chiara c'è la delega fiscale ma è chiaro che non ci sono i soldi per fare cose importanti dall'altro c'è un'opposizione che temo io cerchi di cioè sono favorevole al salario minimo e il tema del lavoro però non è una variabile indipendente se c'è il lavoro povero è perché c'è una produttività bassissima non si crea valore aggiunto nelle imprese dunque non possiamo pensare di rendere sostenibili dei livelli di remunerazione che ci devono essere più alti come se fosse una variabile indipendente dunque da una parte abbiamo un governo che è la vecchia destra e un'opposizione che rischia faccio questo esempio su come è giusto quello che sta dicendo Fubini io conosco tanti tastisti onestissimi a Roma persino uno mi ha detto guarda io voto Lega ma il post l'ho messo è una ficata non abbiamo più i contanti non rischiamo le ratine i clienti ti lasciano volentieri un euro di mancia perché arrotondano quindi quella è stata una battaglia antistorica il governo Conte aveva fatto un grande sforzo per imporlo sia pure con un qualche avvertimento appena arrivata la Lega come se fosse una cosa barbarica il post ma tu quando vai puoi pagare col post o no o vuoi girare con la saccoccia con i 500 euro in tasso io pago la saccoccia io pago col post ma credo molto nel contante anche il futuro governatore di Banca Italia crede nel contante anche alcuni esponenti è già nominato l'ha nominato da Mattarella il contante secondo me è fondamentale a volte è importante proprio per i ceti più bassi per fare il nero no non è il discorso del nero però non ricadiamo sempre nei luoghi comuni che il contante serve solo per fare il nero ma lo dicono i tassisti che sono contenti di pagare col post vogliamo fare la serata dei luoghi comuni lo facciamo i balneari sono tutti vivono di privilegi non pagano proprio per evitare i luoghi comuni abbiamo chiamato una persona a raccontare è un testimone però lo dice Meloni perché il rapporto sull'evasione è firmato Giorgetti Meloni e c'è scritto che la propensione all'evasione del lavoro autonomo è il 67% è veramente il primo di Meloni però una storia sul contante perché quando fu messa la soglia a 500 euro io ero assessore vengo aggredita per strada la soglia per pagare del pagamento si poteva pagare in contanti solo sotto i 500 euro vengo aggredita per strada da un cittadino questa soglia che cosa hanno fatto il governo io dico ma scusi lei che lavoro fa io sono un giorgliere allora io lo guardo e faccio scusi ma proprio lei perché chi è che viene a comprare una collana da 10.000 euro e paga in contanti è assurdo non esiste come tutti vengono a pagare in contanti la collana da 10.000 euro perché hanno i contanti a casa e devono cercare in qualche modo di spenderli e quindi ci comprano i gioielli me lo disse un cittadino per strada allora noi questo problema abbiamo col contante questo tra l'altro ci sono anche precedenti illustri di insomma esponenti politici che pensavano come avrebbero fatto gli uomini a fare regali in Lamanti senza essere rintrazzati dalle moglie ci sono dei rapporti vi lascio solo un secondo sul valore del contante insomma niente noi però qua vediamo e spensiamo vediamo la home page di Repubblica eccoci qua Giorgio Miloni infiamma il comizio di Vox anche Spagna un governo di patrioti fermare il fanatismo ultra ecologista perché lo leggiamo non solo perché appunto siamo in diretta e vi diamo gli aggiornamenti ma perché ieri a proposito di delirio di fanatismo ultra ecologista ieri nel Parlamento Europeo si è tenuto un voto importante è passata la legge europea sul ripristino della natura che ha diciamo cambiato un po' il racconto di questa Europa che si avvicina alle elezioni del 2024 guardando soprattutto a destra perché diciamo la mozione della destra europea è uscita anche se di poco perdente vediamo un attimo un video e poi lo commentiamo insieme approvata con fatica la legge sul ripristino della natura uno dei pilastri del Green New Deal che impegna gli stati al ripristino entro il 2030 di almeno il 20% delle superfici terrestri e marine dell'Unione Europea semaforo verde grazie al voto di una pattuglia di popolari che contravvenendo agli ordini di scuderia hanno fatto naufragare il tentativo di riproporre in Europa una maggioranza di centrodestra sul modello italiano il regolamento prevede tra le altre la riduzione dell'utilizzo dei pesticidi per invertire il declino delle popolazioni di impollinatori entro il 2030 iniziative per incrementare la presenza di alberi in città misure per l'aumento della biodiversità in agricoltura non mancano iniziative per le foreste per gli habitat marini e i fiumi tra i capitoli al centro del dibattito l'eliminazione delle barriere fluviali per far sì che 25.000 km di fiumi siano trasformati in fiumi a flusso libero entro il 2030 allora sempre il maestro possiamo dirlo mi ha fatto un commento bestiale è un tema bestiale non è un termine proprio oxfordiano spieghiamolo cosa intendevi dire è interessante quello che ha detto Meloni nella campagna elettorale spagnola ma in realtà nella campagna elettorale delle europee questa leader della destra europea si presenta mette al centro il tema della rivolta all'ambientalismo molto intransigente ed è probabilmente un tema che sostituirà o affiancherà temi classici della destra come le migrazioni dopodiché diciamo ho sempre paura che quando questi temi vengono catturati presi ostaggio dello scontro politico non ci si capisce più nulla non mi ha stupito quello che è stato raccontato no no non mi ha stupito lo prevedevi perché Fubini conosce benissimo l'Europarlamento no era diciamo sono mesi che si vedeva arrivare questa cosa qua il tema è che c'è la realtà e poi c'è la politica la politica racconta sta cercando voti delle europee poi la realtà è una cosa diversa e una cosa che mi verrebbe da dire è che l'Europa rappresenta tra l'8 e il 9% delle emissioni anche se noi facciamo questo sforzo molto grande portiamo giù le emissioni dello 0,50% delle emissioni globali e semplicemente qualche centrale a carbone in India può negare tutto lo sforzo europeo dunque e questa è mi spiace la cecità e l'epocrisia europea perché noi stiamo chiedendo ai paesi in via di sviluppo ai paesi emergenti di fare quello che facciamo noi ma non vogliamo mettere sul piatto del negoziato quello che interessa a loro per esempio la rappresentanza del Fondo Monetario Internazionale rappresentanza dei paesi emergenti alla Banca Mondiale il debito dei paesi in via di sviluppo tutte queste cose noi non le mettiamo sul piatto i vaccini devono solo interrompere le emissioni perché abbiamo deciso così una forma di neocolonialismo ambientalista neocolonialismo non lo so ma vogliamo parlare solo di quello che interessa a noi e non di quello che interessa a loro e non andremo da nessuna parte e siamo dimentichi di quanto abbiamo già fatto noi andiamo un attimo in pubblicità torniamo subito con tutti gli ospiti state lì allora abbiamo già nel blocco detto cose interessanti veramente due lampi folgoranti Piccolotti e Iacometti chi comincia? vado velocissima perché la legge sulla terra non è assolutamente ecofanatismo anzi è una cosa di buonsenso faccio un esempio per far capire a casa l'impollinazione delle api produce il 70% del nostro cibo se non ci sono le api non c'è il cibo e siccome i pesticidi le stanno uccidendo tutte noi dobbiamo salvare le api anche perché questo lavoro di impollinazione vale 140 miliardi di dollari che se muoiono le api non ci saranno più lo stand più commovente di Expo era uno stand della Gran Bretagna tutto sulle api salvare le api a me delle api interessa poco ecco la destra ecco la destra che se ne frega dell'ecologia secondo me è sbagliato il titolo destra infuriata e sconfitta è sbagliato perché in realtà la destra non è stata sconfitta e non è per niente infuriata ma è molto speranzosa e molto contenta perché la destra intanto è riuscita ad annacquare un testo molto forte e quindi è stata una delle prime sconfitte di Timmermans che sappiamo che è il gran sacerdote ecotalebano della commissione europea che vuole porre degli obiettivi irrealizzabili e sta facendo anche un cattivo servizio alla causa ambientalista quindi su questo la destra vince su questo la destra vince perché ieri è andata in frantumi la maggioranza Ursula adesso la legge non è passata ma il PPS è schierato con le destre i repubblicani i liberali di Renew si sono spaccati hanno votato in parte con la destra quindi non c'è più la maggioranza Ursula ieri è andata in frantumi la maggioranza Ursula e anche quell'alternativa che si stava profilando però siccome sono una delatrice il titolo è di Mimotorisi quindi citofonare Torisi per quel titolo ma Mimotorisi è un maestro io non mi permetto di riguardare il titolo però sempre per quel discorso per cui noi qui ridiamo e scherziamo le cose poi succedono alla festa dell'unità Elie Schlein ha parlato e ne ha detta una pesante che Ludovica Ceriello ha raccolto per noi tanto anche è la russa è sufficiente quello che ha detto Giorgia Meloni ieri non è sufficiente finché la ministra Santanchè non si dimette o finché la presidente del consiglio non la fa dimettere le gravità di quello che è emerso e soprattutto del fatto che è venuta davanti al Parlamento e davanti all'Aula a dire delle cose false e questo non è accettabile a voi valutate altre iniziative per esempio uscire dall'Aula noi abbiamo già fatto altre iniziative non solo l'interrogazione che ha svelato questo debito di 2 milioni e 7 su cui la ministra nel suo intervento al Senato non ha negato non ha negato quel debito di 2 milioni e 7 non restituito ma potrà una ministra della Repubblica essere in debito e non aver restituito il debito verso lo Stato abbiamo chiesto anche agli altri ministri competenti per materia di venire a chiarire i contorni di questa vicerna il Partito Democratico continua a chiedere confermezza le dimissioni della ministra Santanchè allora chi vuole cominciare può un ministro questo è interessante questa è l'argomentazione Schlein da valutare cioè può un ministro non rimborsare un debito dello Stato fra l'altro di un fondo che era un fondo di assistenza per il Covid che molti imprenditori che si massacrano per 40-50 mila euro non hanno ottenuto secondo me c'è un tema più generale cioè Meloni ha questa visione di un partito conservatore una grande tenda la vuole esportare in Europa eccetera allo stesso tempo ha palesemente perché la russa Santanchè come si chiama la viceministra della giustizia che si è dovuta dimettere Lollobrigia che parla della Montaruli poi Lollobrigia che parla con quello slogan della sostituzione etnica tutte cose che fanno vedere che non c'è tanto una classe dirigente intorno a lei e che ci sono dei fedelissimi dunque se Meloni vuole dare vita a questa visione della grande tenda del partito conservatore non può essere circondata della classe dirigente che si è formata quando erano Vax no euro faceva i complimenti a Putin cioè è proprio una contraddizione che lei deve sciogliere che cos'è questo partito conservatore secondo me Giacometti pochi minuti fa proprio qui a Inonda Mauro Mazza ha detto sostanzialmente questi nodi alcuni di questi nodi verranno sciolti da Meloni probabilmente c'è il tempo per un tagliandino al governo non ha parlato di rimpasto ma insomma ha usato un sinonimo molto simile forse può riguardare il ministro Santanchè se ci saranno degli sviluppi giudiziari non credo che ci saranno tagliandosi non ci saranno sviluppi giudiziari non credo non credo che ci saranno interventi sulla russa non credo che ci saranno interventi su Del Mastro credo però come dice Fubini che Giorgia Meloni nel momento stesso in cui è passata dall'opposizione a Palazzo Chigi ha fatto un reset mentale politico per cui è diventata una rappresentante delle istituzioni e ha iniziato a comportarsi di conseguenza vedo che ci sono un po' più di difficoltà diciamo ad abituarsi a diventare ad essere figure istituzionali da parte di esponenti politici che hanno per tanti anni militato nell'opposizione questo sicuramente è evidente insomma poi detto questo non credo che per questo vadano fucillati sulle questioni giudiziarie per carità quando interverranno ci saranno delle evidenze di carattere giudiziario si prenderanno sicuramente dei provvedimenti ma credo che saranno le stesse persone coinvolte a prenderli però dal punto di vista delle sgrammaticature come le ha chiamate la Giorgia Meloni non credo che ogni giorno si possa passare l'opposizione può passare ogni giorno a chiedere le dimissioni un telegramma Isabetta Piccolotti no no assenta se chi ha visto questa puntata ha notato una sintonia Landini Piccolotti che vuol dire sinistra italiana e Verdi e la Schlein cioè avete una linea comune che però in certi momenti come in questo arriva quasi al limite dell'Aventino Matteo Renzi ha detto questa linea è un regalo alla destra lei deve rispondere con un argomento ma il regalo alla destra lo fa Matteo Renzi che spesso vota con la destra dargli voti è un grande regalo non dargli non è un regalo ma non è muro contro muro voi siete minoritari noi stiamo cercando di portare avanti una idea alternativa ma la destra non apre nessuno spazio prima dicevamo dei salari per quale motivo stiamo dominando il dibattito sui salari perché c'è una gigantesca crisi inflattiva che non si vedeva da 30 anni e la destra ha pensato bene di non fare nulla anzi anche gli opinionisti della destra vengono e ci spiegano che se pagano più di 3 euro negli stabilimenti balneari le imprese vanno sottosopra a gamba all'aria e quindi praticamente deve esserci un esercito di sfruttati mal pagati sono oltre 4 milioni un terzo dei lavoratori guadagna meno di 10 mila euro l'anno che non si capisce come dovrebbero vivere allora di fronte al governo che non fa nulla su questo e non ci fa nessuna apertura nessuna di nessun tipo noi che cosa dobbiamo fare? l'opposizione per me si è stato detto non la facevamo bene ora che la stiamo facendo ne stiamo facendo troppo allora la nostra leader Mariana Aprile è ribattezzata bussole chi è la bussola di questa settimana? la bussola cioè l'intervista che ci aiuta a capire meglio un tema specifico questa settimana è con il meteorologo Luca Mercalli quindi salutiamo ringraziamo Sandro Iacometti Elisabetta Piccolotti e Federico Fubini per essere stati con noi voi rimanete lì tornano anche perché di temi ce ne sono tornano prestissimo intanto noi torniamo tra pochissimi minuti con Luca Mercalli che ci spiega non solo la legge approvata in Parlamento Europeo ma anche tante altre cose che ci riguardano proprio dentro casa restate inchiodati grazie a tutti Grazie a tutti le immagini di quello che sembra un moderno inferno contemporaneo le alzure la siccità e quella condizione che stiamo vivendo anche in questa estate nei territori d'Europa in Italia allora ci serve abbiamo sentito con Marianna la necessità di approfondire siamo andati ad attingere a un saggio un intellettuale un professore un climatologo che ci aiuta a raccontare che tutti conoscete il professor Luca Mercalli buonasera benvenuto fra di noi buonasera professore buonasera a tutti voi e grazie per il saggio saggio ma anche appassionato e capace di grande forza polemica come vedrete in questo blocco allora la prima domanda che le faccio professor Mercalli è semplice ed è diretta il dibattito è noi in questa estate abbiamo una percezione più forte o i dati oggettivamente in maniera insindacabile ci dicono che stiamo vivendo un riscaldamento molto più forte di quello dell'estate scorsa no non è più forte di quello dell'estate scorsa perché ricordiamo che l'estate 2022 è stata la più calda di sempre nella storia d'Europa di almeno 250 anni essendo poi l'estate composta da tre mesi giugno luglio agosto tireremo le somme faremo le statistiche opportune al primo di settembre del 2023 per il momento dopo un giugno che a molti è parso sotto tono in realtà è stato comunque il decimo giugno più caldo della storia in Italia ed è stato il più caldo di sempre a livello globale noi ci ritroviamo adesso con questa ondata di calore che sta portando i livelli delle temperature di luglio sicuramente al di sopra della media vedremo agosto come si comporterà e tireremo le somme all'inizio dell'autunno certo è che ormai questo genere di comportamenti della temperatura è in forte ascesa è una tendenza ormai conclamata fa più caldo in tutto il mondo fa più caldo in tutte le stagioni e poi si alternano i momenti dove ci sono i veri e propri record a quelli dove il caldo fondamentalmente non lo percepiamo perché è un mezzo grado un grado al di sopra della media però c'è abbiamo commentato fino a qualche minuto fa il voto del Parlamento europeo di ieri sulla Nature Restoration Law abbiamo visto cosa prevede facciamo un piccolo recap per gli spettatori insomma la protezione della biodiversità il ripristino ecco lo vediamo nel nostro cartello ripristino il 20% delle aree marine e terrestri degradate il taglio all'uso dei pesticidi e la prevenzione dei disastri ambientali allora intanto le chiedo un giudizio diciamo scientifico su queste misure se le sembrano sufficienti un buon inizio troppo poco troppo tardi insomma un voto professore diamo pure un voto che potrebbe essere un 6 e mezzo 7 insomma qualche cosa si fa sempre tardi e sempre poco rispetto all'urgenza del problema non dimentichiamo che la biodiversità è fondamentale per la nostra sopravvivenza noi stiamo estinguendo specie viventi a un tasso molto superiore al livello di fondo che farebbe la natura se non avessimo noi turbato con tutte le nostre pressioni i vari processi naturali e se cede la biodiversità cede anche la nostra società quindi è qualcosa che dobbiamo fare non per un motivo di etica a priori ma perché insieme al clima difendere la biodiversità è l'unica assicurazione sul nostro futuro e su quello delle generazioni più giovani l'Europa in questo senso è all'avanguardia rispetto ad altri luoghi del mondo però non è che possiamo darle un voto da prima della classe anche perché come sempre queste leggi sono degli ottimi punti di partenza sulla carta ma bisogna poi vedere quanto si trasformeranno in azioni concrete e lo vedremo nei prossimi anni non dimentichiamo anche che è una legge che è passata veramente per una manciata di voti quindi vediamo anche che manca un forte consenso manca quella visione nella società civile che renda conto dell'urgenza e della gravità di questo problema ha fatto scalpore uno studio di Nature che ha indagato gli effetti del riscaldamento in Europa ci sono 61 morti a causa del caldo uno in Italia drammatico 61 mila uno drammatico pochi giorni fa un lavoratore stroncato dall'affettacchiamento della temperatura ma 18 mila vittime in Italia è obiettivamente un record questa è la mappa del caldo record in Italia nella giornata del 10 luglio e allora come ci spiegherebbe gli effetti del riscaldamento globale sulla nostra penisola in Italia perché sembrano addirittura più accentuati in tutta Europa è incredibile la parte abbiamo quasi un terzo di queste vittime l'Italia è protesa nel Mediterraneo e quindi insieme alla Spagna è la regione che più risente di questi anticicloni africani che si gonfiano in genere tra Marocco e Algeria e poi arrivano ad interessare il bacino del Mediterraneo prima di tutto il centro-sud Italia e poi anche le regioni settentrionali le Alpi la zona del Midi francese in effetti il maggior carico di vittime appartiene proprio a questa regione europea occidentale anche la Francia ne ha avute molte anche la Spagna chiaramente c'è un fatto di temperature più elevate da noi rispetto al di durata perché comunque il tema della mortalità dovuta al caldo deriva anche dalla durata di queste ondate di calore non soltanto dal picco massimo di una giornata l'anno scorso abbiamo avuto tre mesi fondamentalmente di caldo senza tregua e questo dà la somma sul lungo periodo della mortalità che arriva da uno stress termico anche prolungato i fasce deboli sono più sensibili come gli anziani i malati ma anche i lavoratori esposti a tutte quelle attività che si fanno all'aria aperta pensiamo agli agricoltori pensiamo a chi asfalta le strade professore abbiamo avuto ospiti ragazzi di ultima generazione lei sa che usano un'immagine molto forte provocatoria ovviamente per sconvolgere e toccare le coscienze se rivediamo quella cartina dell'Italia dicono nel 2050 a Bologna ci sarà il mare è una provocazione puramente simbolica è una previsione catastrofistica è un'eventualità ma lei come giudica effettivamente vedendo la perissima sembra veramente un fortino assediato dalle temperature esiste la possibilità di erosione nella costa in tempi non secolari si esiste forse non in queste dimensioni però non dimentichiamo che i dati scientifici che in Italia sono elaborati tra l'altro dall'Enea quindi un ente al di sopra delle parti non certo soltanto un'organizzazione ambientalista sono i dati che ci dicono che gli oceani di tutto il mondo stanno già crescendo al tasso di 4,6 millimetri all'anno questo a causa dell'espansione termica delle acque dovuta proprio al riscaldamento degli oceani e alla fusione delle grandi calotte polari in particolare la Groenlandia gli scenari climatici per questo secolo ci dicono che in mancanza di una politica di contenimento delle emissioni serra globali alla fine di questo secolo cioè tra un'ottantina d'anni nello spazio della vita di una persona noi potremmo avere circa un metro di mare in più se invece l'accordo di Parigi verrà rispettato non è Bologna ma vuol dire Rovigo vuol dire Venezia ovviamente vuol dire i Lidi Romagnoli se invece l'accordo di Parigi fosse effettivamente rispettato nei tempi rapidi in cui bisognerebbe farlo il mare non dimentichiamo che continuerebbe a salire perché ormai è un processo che è avviato e l'inerzia è tale che non riusciremmo a fermarlo ma l'esito finale a fine secolo non sarebbe di oltre un metro ma probabilmente di circa una quarantina di centimetri quindi il problema ci sarà comunque ma più facile cercare una forma di adattamento e di protezione costiera per 40 centimetri che per un metro e venti ecco questa è l'unica cosa che ci possiamo permettere la zona delta del Po e laguna Veneta è una delle più esposte al mondo direi un'icona addirittura della fragilità poi c'è la piana di fondi vicino a Latina e qualche altra zona il Cagliaritano dove abbiamo anche città importanti su coste inondabili per fortuna abbiamo tante coste rocciose in Italia e quindi questo ha già un vantaggio sugli 8 mila chilometri di coste non essere tutti in uno stato di vulnerabilità ovviamente i Paesi Bassi sono molto più vulnerabili professore lei prima ha accennato appunto all'erosione delle calotte polari diciamo che anche gli acciai non se la passano benissimo adesso le farò una domanda ma mentre gliela faccio e mentre lei ci risponde passeranno delle immagini sono quelle che la NASA ha realizzato su degli acciai dell'Alaska e sulla loro progressiva erosione ecco lo stiamo vedendo e subito dopo di queste passeranno quelle del nostro Adamello per dire che il problema non è lontano ma ce l'abbiamo anche in casa e lo ripetiamo una volta di più e la domanda che le faccio è diciamo alla luce di questa giusta posizione sono gli stessi luoghi visti a distanza di in fondo pochissimi anni se la causa dello scioglimento dei ghiacciai non sia già una causa persa allora la fusione dei ghiacciai procede spedita e soltanto l'estate del 2022 incluso il terribile incidente alpinistico della marmolada ha portato alla perdita del 6% degli acciai alpini che è un'enormità è stato l'anno peggiore nella storia della glaciologia alpina che ormai ha 200 anni di dati accurati abbiamo visto queste immagini come? 6% in un anno soltanto nell'arco di un solo anno 6% di perdita di massa glaciale in un solo anno ormai è il 60% in un secolo la perdita di massa degli acciai alpini e anche in tutte le altre catene montuose del mondo purtroppo gli scenari sono questi le immagini degli acciai dell'Alaska sono assolutamente impressionanti perché hanno cambiato la geografia di un paesaggio intero sono luoghi irriconoscibili la causa è in parte perduta sì perché l'inerzia nuovamente dell'aumento di temperatura già in atto fa sì che in molte regioni i ghiacciai siano irrecuperabili comprese le Alpi cioè noi diamo comunque per certa la sostanziale riduzione a circa il 10 20% della massa glaciale che c'è oggi entro la fine di questo secolo più o meno irrecuperabile possiamo dire che se l'accordo di Parigi avrà successo con un aumento dell'ordine di 2 gradi conserveremo qualche distretto glaciale alle quote più elevate diciamo sopra i 4.000 metri se invece andremo nello scenario peggiore con oltre 5 gradi di aumento a fine secolo possiamo dire che le Alpi saranno definitivamente trasformate in un appennino senza traccia di ghiaccio per la fine di questo secolo di fronte a queste evidenze e alle indagini esistono due sentimenti uno lo usiamo spesso come contraltare polemico ma è molto più minoritario quello dei negazionisti non è vero è sempre stato così ma so che su questo legge ha risposto centinaia di volte l'altro però io lo battezzerei il sentimento dei fatalisti sì ma noi in Europa non cambiamo niente perché poi ci sono i paesi in via di sviluppo ci sono i BRICS c'è l'India c'è la Cina che cresce a un ritmo incredibile divora risorse e consuma in modo tradizionale come noi facevamo 50-60 anni fa ad esempio con la prevalenza del carbone cosa risponde ai fatalisti che dicono allora se è così noi in Europa non dobbiamo fare niente è vero che l'Europa conta poco circa l'8% delle emissioni mondiali è vero che l'Italia conta ancora meno circa l'1% però intanto questo non è mai da un punto di vista etico una buona ragione per dire se tutti rubano rubo anch'io questo è un principio che Papa Francesco ci ha scritto in modo indelebile nella encicli che laudato sì è una questione anche di essere coerenti con i propri valori e l'Europa questi valori li ha e li ha sanciti e cercano di fare da capofila poi è verissimo che noi per quanto ci si impegni potremmo dare un segnale minimo da un punto di vista pratico ma attenzione le nostre basse emissioni come europei non va dimenticato che non tengono conto di tutte le emissioni occulte degli oggetti che noi compriamo in Cina fatti a dei prezzi molto bassi proprio per questi motivi quindi c'è anche in realtà un bilancio un po' maggiore rispetto alle nostre emissioni sul territorio quello che conta secondo me è dare un segnale che poi a livello mondiale deve aiutare a livello di Nazioni Unite l'applicazione di politiche virtuose anche in altri paesi non si può andare a predicare ai paesi emergenti di fare dei sacrifici se non li facciamo noi per primi questo è anche logico l'India non muoverà i primi passi se vede degli Stati Uniti obesi chiaro prima ci vuole una riduzione da chi è obeso e poi anche chi è troppo magro e da chi in passato ha già potuto inquinare per sviluppare le proprie economie ringraziamo il professor Luca Mercalli ricordiamo che la CO2 sta in atmosfera per centinaia d'anni quindi il caldo di oggi è frutto ancora della riduzione industriale di alcuni chiaro grazie io sarei ora anche io infatti torneremo a bussare alla sua porta torneremo a infortunarla intanto però dopo di noi va in onda una cosa visto che abbiamo parlato di riscaldamento globale la patata bollente con Renato Pozzetto e Tric Fenec Massimo Ranieri con la regia di Steno un cavolavoro hai fatto una battutaccia perché è un altro tipo di riscaldamento molto più locale però so che tu domani non volevi venire no vengo vengo se vieni tu vengo io allora vengo anch'io grazie a tutti grazie a tutti Grazie.